Stamattina organi ufficiali americani hanno riferito alla ABC che il presidente russo Putin è coinvolto nell'accheraggio del Comitato Nazionale Democratico. Vladimir Putin ha diretti i attacchi di cyberattacchi. Riespetti Putin? Riespetti lui. Ma perché? Putin è un ucciderio. Molte uccideri è perché pensi che il nostro paese è così innocente? Salve. Salve. Come sta, signor Presidente? Benvenuto. È un piacere rivederla. Penso che potrebbe sedersi lì. D'accordo. Io mi siederò da questa parte. Si accomodi. Improvviseremo tutto. Non ci sono regole. Bene. Per over 40 years the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the spectre of nuclear destruction. That confrontation is now over. Per la prima volta nella storia della Russia il potere supremo dello Stato viene trasferito in modo democratico e senza alcuna tensione. Per precisa scelta del popolo. Legalmente e pacificamente. La maggior parte delle persone occidentali non sa molto di lei. Ci piacerebbe sapere di più sul suo passato e da dove è venuto. Io so che è nato nell'ottobre del 1952 dopo la guerra. Sua madre lavorava in fabbrica e suo padre è stato in guerra. E so che ha vissuto in una casa popolare con altre famiglie quando era giovane. mia madre non lavorava in fabbrica. Era mio padre a lavorare in fabbrica. E cosa faceva? Ha frequentato un istituto professionale e poi è andato a lavorare in una fabbrica come ingegnere. Ma è stato ferito in guerra? Sì. All'inizio della guerra prestava servizio in una divisione di un'unità speciale. Sì. E poi è stato mandato nell'esercito. Ha combattuto per molto tempo in una delle zone più pericolose del fronte di Leningrado. Io ero il figlio più piccolo. Avevano perso due figli prima di me. Uno nell'assedio di Leningrado e l'altro nella guerra patriottica. Ho sentito che ha avuto dei problemi di delinquenza giovanile. Era una piccola peste prima di studiare judo quando aveva 12 anni. Avevo molta libertà. E passavo molto tempo nei cortili e nelle strade. Ho iniziato a fare judo e questo è diventato uno dei fattori che ha cambiato la mia vita in meglio. Mi è stato molto utile. Si è diplomato e poi mi pare che abbia subito frequentato giurisprudenza. È così? Sì, questo è esatto. Ho studiato a Leningrado. Ho fatto il liceo. E subito dopo mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'università, sempre a Leningrado. E ha conosciuto la sua prima moglie? La sua unica moglie, mi scusi. No, è successo dopo. Parliamo di sette anni più tardi, nel 1983. E poi è entrato subito nel KGB. Se non sbaglio era il 1975. Sì, nel 75, a Leningrado. Sì, esatto. Nelle università dell'Unione Sovietica esisteva il cosiddetto sistema di distribuzione. Dopo la laurea si lavorava dove c'era bisogno di quel tipo di professionalità. ed io veni mandato a lavorare... Però quindi non ha avuto scelta? No, io ero obbligato ad andare a lavorare lì, ma mi stava anche bene. Se ho scelto giurisprudenza e studiato legge è proprio perché volevo entrare nel KGB. E ha avuto un approccio romantico al KGB e all'intelligence attraverso dei film, giusto? Sì, esatto. Sì, ci sono libri e film che parlano di quella realtà e lei l'ha riportata correttamente. Lei ha vissuto a Dresda dall'85 al 90, ma per i primi dieci anni è stato quasi sempre a Leningrado. Sì, sì, a Leningrado e anche a Mosca dove ho frequentato delle scuole speciali. La Germania dell'Est in quegli anni era un po' triste. Non è che... Non è che fosse triste, ma parliamo di una società rimasta come congelata agli anni 50. Erano anni un po' strani. Poi è tornato a Mosca? Ha vissuto la perestroica? Vede, era evidente sia a Gorbaciov che al suo entourage che il paese avesse bisogno di grandi cambiamenti. Quello che posso dirle oggi è soltanto che non capivano quali cambiamenti servissero e come metterli in pratica. Ma queste erano idee di Gorbaciov? Lei è stato influenzato da lui? In realtà non erano idee di Gorbaciov, ma risalivano al concetto di utopia dei socialisti francesi. Gorbaciov non c'entrava quasi niente. Le ripeto che ha il merito di aver avvertito il bisogno di cambiamento, questo è vero, e di aver cercato, sì, di cambiare il sistema. Ora, il grosso problema è che il sistema era sbagliato alla radice, quindi come fare a cambiarlo salvando al tempo stesso il paese? C'è un aspetto che inizialmente sfuggì a tutti, compreso purtroppo allo stesso Gorbaciov. Il paese era arrivato letteralmente a un passo dal collasso. Capisco, l'Unione Sovietica è crollata e Yeltsin ha creato la Federazione Russa. All'epoca venne completamente distrutto quello che era il nostro sistema sociale. Interi comparti della nostra economia vennero messi fuori gioco e lo stesso sistema sanitario non esisteva praticamente più. Anche l'esercito venne lasciato a se stesso e milioni e milioni di persone si ritrovarono in condizioni di povertà assoluta, una cosa che non si può dimenticare. Lei si è trasferito a Mosca nel 96 ed è diventato subito capo dei servizi di sicurezza federali per 13 mesi. No, non subito. In realtà dopo essermi trasferito a Mosca ho iniziato a lavorare nel settore legale. Dopodiché sono stato nuovamente trasferito e nominato responsabile di un ufficio che si occupava di supervisione e solo dopo ho avuto l'incarico di direttore dei servizi di sicurezza. Quindi mentre ricopriva quel ruolo deve aver visto quanto fosse complicata la situazione, immagino che ci fosse il caos. Sì, è evidente. Le dirò una cosa, sento molto spesso critiche nei miei confronti perché avrei nostalgia della vecchia Unione Sovietica. Ora, prima di tutto, dobbiamo pensare che dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica circa 25 milioni di cittadini russi si sono ritrovate di colpo stranieri in casa propria e questa è stata una delle catastrofi del ventesimo secolo. La gente era abituata a vivere in un solo grande paese. Avevano parenti, un lavoro, la propria casa e ovviamente godevano tutti degli stessi diritti e di colpo si sono ritrovati a vivere all'estero. Nel nostro paese siamo arrivati sull'orlo di una vera guerra civile. Nell'ottobre del 93 la Russia era sull'orlo di una guerra civile con i deputati del Parlamento da un lato e Boris Yeltsin con i suoi sostenitori dall'altro. Yeltsin, che controllava l'esercito, diede l'ordine di far fuoco direttamente contro gli edifici del Parlamento e i colpi raggiunsero gli uffici del presidente e del vicepresidente che si era schierato con i deputati. Due giorni di guerra in strada. Hanno lasciato centinaia di morti e feriti. E ovviamente ho visto tutto, specie quando sono diventato direttore dei servizi di sicurezza. L'Unione dei Stati continua a stare fermo e a supporto del presidente Yeltsin perché è la Russia la democrattica. E alla fine del 99 lei è diventato primo ministro e Yeltsin si è poi dimesso. guardando le conferenze stampa e i filmati del signor Yeltsin si nota che fosse in uno stato alterato dovuto all'alcol. Per il modo in cui parlava, per il modo in cui guardava le telecamere, per il modo in cui si muoveva. sembrava che fosse catatonico. In realtà non penso di avere il diritto di giudicare la personalità di uomini come Gorbachev o Yeltsin. Come tutti noi, Yeltsin aveva i suoi problemi, il che era evidente, ma aveva anche degli aspetti positivi, il principale dei quali è che si è sempre assunto tutte le responsabilità che derivano dal potere. Lui sapeva sempre quali erano le responsabilità da prendersi, ma quello che ha detto è vero. Non è certamente un segreto che bevesse troppo. Non è vero. Non è vero. La mia città è vero. Non è vero. Per esempio. La tragedia, con nuovi politici, con nuovi persone, con nuovi, umani, forti, energici. Insomma, i primi ministri vanno e vengono di continuo e all'improvviso, ecco, è lei il primo ministro. Com'è successo? Si sa, è una storia curiosa. Vede, io ero tornato a Mosca, da Leningrado, e in tutta Mosca non avevo nessun sostegno, nessun contatto. Sono arrivato nel 1996 e il primo gennaio del 2000 sono diventato presidente. Ancora oggi non riesco a spiegarmi il perché abbia scelto proprio me. Ma quando Yeltsin mi offrì per la prima volta l'incarico alla guida del governo, io rifiutai. Ha rifiutato e perché? In effetti, sì, mi invitò nel suo studio e mi disse che mi voleva come primo ministro e che voleva che mi candidassi anche alla presidenza. E io gli risposi che quella che dovevo assumermi era una grande responsabilità e che avrei dovuto cambiare del tutto vita e che non ero sicuro di voler accettare. Perché avrebbe dovuto cambiare vita? Insomma, aveva già lavorato nel governo per molto tempo. Beh, sono due cose un po' diverse. Se lavori nel governo, anche ad alti livelli, puoi quasi vivere una vita normale. Puoi vedere i tuoi amici, andare al cinema, andare a teatro. e non devi assumerti la responsabilità del destino di milioni di persone e non devi pensare a tutto quello che succede nel paese. Accettare queste responsabilità nella Russia del tempo era una cosa molto difficile da fare. Devo confessarle che all'epoca non avevo assolutamente idea di quali fossero i piani del presidente Yeltsin nei miei confronti e non sapevo per quanto avrei ricoperto quella carica, perché in qualunque momento avrebbe potuto, come dire, licenziarmi. C'era solo una cosa fissa nei miei pensieri, come proteggere le mie figlie. Ah sì, davvero? Certo, come pensa che mi sentissi. E se avessi dovuto dimettermi non avrei più avuto le mie guardie del corpo e a quel punto sarebbe stato un vero problema riuscire a proteggere efficacemente la mia famiglia. Ma al tempo ho pensato che quello era il mio destino e che dovevo accettarlo e dovevo andare fino in fondo. Comunque ripeto che non sapevo davvero che sarei diventato presidente e in ogni caso non c'erano garanzie di sorta in quel senso. Capisco, sì, ma in questo periodo hai riuscito a vedere le sue figlie e sua moglie? Non molto, perché rientravo tardi e uscivo presto, per cui li vedevo molto raramente, troppo raramente. E se mai svegliato alle quattro riusciva a dormire? No, non mi sono mai svegliato alle quattro. Diciamo che andavo a letto intorno a mezzanotte e che mi svegliavo alle sette del mattino. Davvero? Sì, cerco di dormire sei o sette ore. Neanche un incubo? No. Questa è la disciplina militare, dalla sua esperienza con il KGB? No, è un'abitudine che mi deriva dallo sport e certo anche dal servizio militare. Dicono che lei basi la sua filosofia di vita sui principi del Judo. Sì, sì, l'idea è quella. È molto impegnativa. Bisogna essere flessibili e sfruttare le debolezze dell'avversario, ma la flessibilità è centrale. È quella che può portarti alla vittoria anche partendo da posizioni almeno apparentemente più deboli. Possiede molta disciplina. Senza disciplina sarebbe difficile affrontare i grandi problemi di oggi. Certe tematiche sono molto complesse anche dal punto di vista strategico. Bisogna essere sempre in forma. E poi arriva il 2000 e lei diventa presidente. Ha ricevuto il 53% dei voti. Non ci si aspettava che rimanesse in carica durante un momento così brutto per il paese. C'era la guerra in Cecenia, era terribile. Sì, è vero. Inoltre la seconda guerra Cecena è iniziata nell'agosto del 1999 ed è stata una cosa terribile per il nostro paese. Ho dovuto assumermi le mie responsabilità e affrontare la situazione. Quello è stato davvero un periodo molto difficile da gestire. Un'altra parte dice che sta combattendo il terroirismo, l'altra parte dice che sta combattendo l'indipendenza. E tutto il tempo, i cori siano nella strada, inoltre la rubbola della guerra. Questo non è il Medellino, questo è la Repubblica russiana di Cecenia. Un piccolo mentione, ma non meno horrifichente. Secondo la tradizione russa, come segno di rispetto verso la sacra terra del Dagestan di cui siamo ospiti, vorrei alzare il bicchiere e bere in memoria di tutti i caduti. No, ancora un secondo. Per questo vorrei proporre di brindare in onore di tutti i nostri morti. Solo dopo che sarà terminato il lavoro che siete stati chiamati a svolgere qui per arrivare alla pace. Durante il suo primo mandato ha fatto molte cose positive. Ha fatto costruire industrie di ingegneria elettronica, di petrolchimica, molte cose buone per l'agricoltura. Ha fatto aumentare il PIL, ha fatto aumentare le entrate, ha riformato l'esercito, ha messo fine alla guerra in Cecenia, ha fermato la privatizzazione. Un vero figlio della Russia. Non è proprio così. Non ho fermato le privatizzazioni. Ho solo preteso che fossero condotte in modo... ...ho voluto evitare che si con... ...la creazione di oligarchie composte da persone diventate miliardarie da un giorno all'altro. Abbiamo portato ad un arricchimento di poche persone e a una situazione in cui il governo o perdeva il controllo di industrie strategiche o ne avrebbe visto la distruzione. Il mio obiettivo non era certo quello di bloccare le privatizzazioni, ma di creare un sistema più... ...più giusto ed equo per la collettività. Gli oligarchi l'hanno sottovalutata? Quando è diventato presidente, credevano che non sarebbe durata? In realtà avevano un approccio diverso. Gli era stato detto che nessuno avrebbe toccato le loro proprietà, che il governo li avrebbe protetti nonostante le leggi vigenti, ma la legge è una delle regole fondamentali. La legge è la legge e va rispettata. Ho parlato con i grandi industriali, ci sono state discussioni molto franche. Ho detto chiaramente che le vecchie regole sarebbero state cambiate, che sarebbero diventate più giuste anche per la collettività e che avrebbero dovuto assumersi una maggiore responsabilità sociale. E molti di loro, la maggioranza, ha accettato i cambiamenti che avevo voluto. Lo sa chi non era felice delle nuove regole? Quelli che guadagnavano milioni o miliardi. Ma guadagnavano milioni e miliardi non solo grazie alle loro, come dire, abilità imprenditoriali, ma grazie alle loro conoscenze. Riuscivano ad avere buoni rapporti con il governo e guadagnavano in questo modo. Ha ridotto la povertà di due terzi. Sì. E ha alzato le pensioni per gli anziani. Sì, sono aumentate, di molto. Nel 2000 lo stipendio medio era di 700 rubli. Nel 2012 è di 29.000 rubli. Sì, esatto. Nel 2004 è molto popolare e viene rieletto con il 70% dei voti. Un po' di più. E nel 2008, visto che sono permessi solo due mandati, è tornato primo ministro. Ma anche allora ha lavorato molto duramente. Sì, ho lavorato molto duramente, credo anche con degli ottimi risultati, ma all'epoca non ero io il presidente della Russia. So molto bene come è stato considerato all'estero questo periodo e anche che cosa si è scritto a riguardo. Ad ogni modo, le assicuro che il presidente Medvedev ha portato avanti le sue funzioni nella massima indipendenza. Solo una persona può essere il presidente di questo paese, quello che viene eletto dal popolo. E nel 2012 lei si candida a presidente e vince con il 63%. Sì, esatto. Tre volte a presidente e hanno provato ad ucciderla cinque volte, non tante quanto Castro. Ho intervistato anche lui. Avranno provato a ucciderlo 50 volte. A lei è andata meglio. Sì, ne ho parlato una volta con Castro. Al che lui mi chiese, lo sai perché sono ancora vivo? Perché mi sono sempre occupato di persona della mia sicurezza. Ora io faccio il mio lavoro e gli addetti alla sicurezza fanno il loro e direi che stanno ottenendo anche degli ottimi risultati. Quindi lei si fida della sua sicurezza? Fanno un buon lavoro? Sì, mi fido. Perché il primo modo per tentare un assassino è quello di infiltrarsi tra le guardie di sicurezza del presidente. Sì, lo so bene. Le dirò un vecchio detto russo. Chi è destinato ad essere impiccato non morirà annegato. Qual è il suo destino? Lo conosce? Solo Dio conosce il nostro destino, sia il suo che il mio. Forse di morire in un letto. Siamo comunque tutti destinati a morire. Il punto è quello che saremmo riusciti a realizzare in questo mondo. E se ci saremmo goduti la vita? Ha avuto una giornata pesante. È passato molto tempo. È un piacere rivederla. Credo che ci siamo visti l'ultima volta lo scorso giugno. Giusto. Le sono mancato? Sì, ho pianto spesso, ma adesso è tornato. Scommetto che ha pianto per altre cose. Mi scusi se mi sono addormentato di sopra. Dovevo riprendermi dal jet lag. Invidio. Com'è andata la giornata? Ho lavorato. Ho visto i miei collaboratori e ho discusso con loro di questioni interne relative alla sicurezza. Ho analizzato delle questioni economiche con il ministro delle finanze e ho dato delle direttive in materia di affari sociali. Poi ho ricevuto il presidente del Parlamento, il ministro della difesa e anche il ministro dell'interno. Accidenti. Aveva un incontro con il gabinetto? No, oggi no. Mi è stato detto che c'è stato un incontro del Consiglio di sicurezza. Sì, diversi anni fa ho deciso di formare un gruppo molto ristretto, composto dai vari responsabili dei servizi di intelligence che abbiamo denominato l'ufficio della sicurezza della Russia. Capisco. Per gestire delle crisi? No, no, no. Ci incontriamo una volta alla settimana. Te l'ho chiesto per curiosità perché dovevamo vederci alle tre e sono passate sei ore e quaranta minuti. Quindi sapevo che lei avrebbe dovuto fare un sonnellino. Ma ci sono state delle crisi da gestire, magari cose che non erano in programma? No, no, nessuna. Nessuna crisi. Sono incontri di routine. Il fatto è che sono tutti incontri che si susseguono. Il problema è che dovrebbero durare magari dieci minuti, ma poi basta una sola domanda e quei dieci minuti si trasformano in un'ora. E diventa sempre più difficile mettere la parola fine. Adesso passo alla mia prossima domanda perché con il mio produttore, Fernando, che è qui, parlavamo di lei prima e abbiamo detto che lei è un eccellente amministratore delegato di una azienda, come se la Russia fosse la sua azienda. Fa girare tutto, si occupa dei problemi e cerca di risolverli nel miglior modo possibile. Sì, è quello che cerco di fare. Diciamo che questo è il problema. Lei entra nel dettaglio del problema e magari c'è un dettaglio ancora più piccolo e in questo piccolo dettaglio ce n'è un altro ancora più piccolo e prima di accorgersene si perde il quadro generale. Potrebbe essere irritante andare a letto la notte senza aver risolto uno di questi problemi. Potrebbe far impazzire chiunque. Non si tratta tanto di problemi risolti ma è il processo decisionale che ti porta a migliorare. Immagini un pittore che sta dipingendo un quadro e viene chiamato a cena. Smette e va a mangiare. Non è così che funziona. Dovrebbe prima finire il quadro e soltanto dopo andare a cena. Sta dicendo che deve finire tutto. Sì, il lavoro va finito. Ora non voglio certamente paragonarmi ad un artista. La mia ricerca di soluzioni somiglia in un certo senso al loro naturale processo creativo. Questo ci porta al problema più grande perché lo sta facendo da quando era presidente, poi da primo ministro e di nuovo da presidente. Sono 15 anni. Sono sicuro che conosce la storia di Ronald Reagan, uno dei presidenti più ammirati dai conservatori del mio paese. Era famoso perché rispettava il suo programma che comprendeva anche il fatto di tornare a casa, alla Casa Bianca, alle 6 della sera, per cenare e guardare la tv con sua moglie. Era un uomo felice. Molto ben organizzato e questo è stato un aspetto che ha sfruttato a suo vantaggio. Ecco il punto. Lui era un uomo sorridente. Ci sapeva fare con le persone e mangiare caramelle gommose e fare battute lo rendeva molto felice. Reagan credeva che fosse giusto delegare l'autorità a coloro che gli stavano intorno. Volevo farle questo esempio per farle vedere un altro stile di vita. Ci sono due cose da considerare. Primo devi trovare le persone giuste e poi delegare loro l'autorità. Lei non sta cercando la strada più difficile. Sì, comunque lo capisco e vorrei tanto poter fare anch'io. Ma ci sono parecchie differenze tra noi. Reagan era capo degli Stati Uniti ed è evidente che le questioni che era chiamata ad affrontare nel suo paese erano diverse da quelle con le quali all'epoca ci ritrovavamo a fare i conti qui, alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000. Reagan non sarebbe d'accordo. Direbbe che l'America era in bancarotta e che si doveva trovare una soluzione e per questo era suo compito portare entusiasmo ed energia positiva in America e ha fatto un buon lavoro cercando di creare quella sensazione. Era un'illusione, certo. Essere quasi in bancarotta ed esserlo davvero sono due cose diverse. In realtà alcuni direbbero che Reagan ha fatto andare ancora di più in bancarotta l'America vista la crescita dei debiti. A proposito, a quanto è arrivato? 18 trilioni? L'ho dimenticato. Ho capito. Quello della Russia è un giusto. Comunque sono 18 trilioni. In Russia ora siamo al 12% del PIL intendo. 18 trilioni l'America e circa un trilione la Russia. E' importante ricordare che il rapporto debito PIL americano è del 100% mentre il nostro è minimo, intorno al 12%. Allo stesso tempo abbiamo anche delle riserve notevolmente maggiori. 360 miliardi di dollari sono le riserve attuali della nostra banca centrale a cui vanno aggiunti altri due fondi, uno da 80 miliardi e un altro da 70 miliardi. A fronte di queste riserve il deficit che abbiamo è veramente minimo. Il prezzo del cibo è salito del 20% nel 2015 e l'inflazione era del 13%. 12,9 per essere precisi. Va bene, va bene. Come agisce la banca centrale russa? Cosa fa? La nostra banca centrale sta seguendo una politica monetaria molto bilanciata in sintonia con quanto richiesto dalle organizzazioni finanziarie come il Fondo Monetario Internazionale. Mi hanno detto che non ci sono problemi, che non avete debiti con l'FMI. Nessun debito. In questo momento non sto parlando del nostro debito. In questo senso la Russia non ha soltanto ripagato il suo debito all'FMI, ma anche quello di tutte le ex repubbliche sovietiche. Anche quello dell'Ucraina, e parliamo di 16 miliardi di dollari. Io parlavo di politica monetaria, per cui siamo in stretto contatto con la signora Lagarde e con i nostri colleghi del Fondo Monetario Internazionale. Li informiamo di quello che facciamo. Seguiamo le loro indicazioni e so che la direzione dell'FMI ha grande considerazione per l'azione della banca centrale russa. Abbiamo solo valutazioni positive. Lei parla ancora come se l'FMI fosse un partner della Russia. Vi comportate come se Wall Street volesse il fallimento della Russia. E io dubito che sia così. E le chiedo, Wall Street sta attivamente agendo per distruggere l'economia russa dell'interesse degli Stati Uniti? Adesso non sto parlando di Wall Street, ma se parliamo dell'amministrazione americana, allora è certo che troppo spesso abbia guardato alla Russia come un rivale. Questa è la sala del trono. Quello è il trono dello zar, quello è il trono della zarina e quello dell'imperatrice vedova. Dicono che lei voglia essere lo zar. Questo è quello che dicono i giornali e le riviste con le loro copertine. Ma a lei fanno ridere, giusto? Sì, è un'idea che piace e forse è per questo che rispunta sempre fuori. Sì. Ma restano legati a certi stereotipi. Ma lei ha permesso a Charlie Rose di affermare davanti all'America che lei ha tutto il potere, che può fare quello che vuole. Lo ha detto chiaramente. Perché è così che molti americani la pensano. Pensano che non ci sia un sistema democratico. E lei non l'ha contraddetta. Mi permetta di interromperla. A mio parere, la questione non è tanto legata alla quantità di potere, ma alla necessità di farne un uso migliore possibile. Beh, allora dovrebbe licenziare l'interprete. Era lei? Io non credo che abbia capito la domanda che gli stava facendo Rose. Lui ha detto che lei è lo zar e che lo dà per scontato, che dà per scontato tutto questo potere. Qualcuno la definisce uno zar. E allora? Negli anni mi hanno detto di tutto. Ormai mi ci sono abituato. È un appellativo che le sta bene. Probabilmente voleva gettare benzina sul fuoco, ma a me non interessava seguirlo in quella direzione. Quindi non perde mai il controllo. Lui ha detto che lei è molto irrazionale ogni volta che le fanno una domanda perché passa delle brutte giornate. Dico bene? Non sono una donna e non ho di quei giorni. Ecco, adesso offenderà il 50% del pubblico americano. La prenderanno male. Non voglio insultare nessuno, ma è nella natura delle cose. Ah, sì, lo so. Quindi le donne per lei di solito sono più emotive. Non vuole che le emozioni possano fuscare il suo giudizio. Ci sono dei cicli naturali in cui forse anche gli uomini hanno dei problemi, ma probabilmente sono meno evidenti. Siamo tutti esseri umani, è normale. Ma non bisogna perdere il controllo. Che cosa ha provato in quel momento? Ecco, lo riteni una persona con la quale era possibile raggiungere un accordo, o almeno lo speravo. L'11 settembre lei è stato uno dei primi a chiamarlo per fargli le condolianze e per collaborare. Sì, avevamo in programma per il giorno seguente un'esercitazione delle nostre forze nucleari e l'ho chiamato per dirgli di persona che avevamo deciso di annullarle. So benissimo come in certi momenti anche un governo o un capo di stato abbia bisogno dell'appoggio morale da parte degli altri paesi e volevamo dimostrargli tutta la nostra vicinanza. E quando il presidente Bush ha invaso l'Afghanistan, lei ha collaborato con l'invasione e ha creato delle basi nel Caucaso e in quella zona per permettere agli americani di rifornire le truppe in Afghanistan. Non è esattamente così. Va bene. Non abbiamo specificatamente stabilito nessuna base a questo scopo, ma ormai da moltissimi anni abbiamo una divisione nel Tajikistan con una propria base per proteggerci da eventuali infiltrazioni terroristiche provenienti proprio dall'Afghanistan. E abbiamo offerto questa base agli Stati Uniti perché potessero rifornire le loro truppe. E avete continuato a farlo anche di recente. Sì, certo. Pensavamo fosse nell'interesse nazionale offrire quella collaborazione. Si tratta di un campo in cui potremmo far lavorare meglio le nostre forze e abbiamo fornito importanti informazioni, specie dal punto di vista dell'intelligence che avevamo raccolto sul campo. La Russia ha sempre avuto molte informazioni riguardo all'Afghanistan perché non avete capito dove si nascondeva Bin Laden e che cosa stava facendo veramente. E non avete capito quanto fosse debole in quel periodo la base di Al-Qaeda in Afghanistan? Al-Qaeda non è il risultato di nostre attività sul campo quanto quello dei nostri amici americani. Iniziò tutto durante la guerra che abbiamo combattuto in Afghanistan. Quando gli uomini dell'intelligence americana iniziarono ad appoggiare in modi diversi il fondamentalismo islamico, aiutandoli così a combattere le truppe dell'Unione Sovietica. Gli americani hanno permesso l'affermazione di Al-Qaeda e di Bin Laden che sono poi sfuggiti al loro controllo. I nostri amici americani avrebbero dovuto saperlo. È colpa loro e di nessun altro. Infatti, Bill Casey, il direttore della CIA sotto Ronald Reagan, ha fatto molto per animare i musulmani della zona del Caucaso e dell'Asia centrale contro l'Unione Sovietica. Il suo piano andava oltre la sconfitta della Russia in Afghanistan. In pratica, quello che volevano era chiaramente un cambio di regime nell'Unione Sovietica. Vede, almeno per alcuni, quegli ideali sono sicuramente ancora vivi. E quando sono emersi dei problemi in Cecenia o nel Caucaso, gli Stati Uniti hanno fatto in modo che si ingigantissero. Noi pensavamo che la guerra fredda fosse terminata e che i nostri rapporti con l'Europa e gli Stati Uniti fossero diventati trasparenti e contavamo sul loro appoggio. Invece, l'intelligence americana appoggiò ufficialmente i terroristi. Ora vorrei dire una cosa che ritengo molto importante. All'epoca, noi nutrivamo grande fiducia in quel periodo. Nella volontà di cooperare espressa dagli americani nelle forme e nei campi più diversi, tra i quali anche la lotta al terrorismo. Ma loro utilizzarono proprio i terroristi per cercare di destabilizzarci internamente. Quale pensa che sia stato il momento più pericoloso durante le guerre in Cecenia? Qual è stato l'anno più duro? È difficile individuare un momento preciso. La cosiddetta seconda guerra a Cecenia iniziò quando un certo numero di comuni cittadini appartenenti a tutte le classi sociali del Dagestan, e ricordiamo che il Dagestan è una repubblica musulmana, presero le armi per organizzare la resistenza contro le forze terroristiche. Ricordo molto bene quei giorni, ricordo che il Dagestan non soltanto ci chiese aiuto, ma ci supplicò di intervenire o almeno di metterli in condizioni di difendersi da soli. C'era un sostegno segreto americano? Lei ha detto di avere le prove che l'America supportasse i Ceceni. Sì, è vero. E comunque il ruolo svolto dai loro media e l'appoggio politico era così evidente da rendere superfluo a qualunque prova. Voglio dire, bastava leggere i giornali. In quanto all'appoggio operativo ed economico, avevamo raccolto numerose prove che abbiamo provveduto a sottoporre alla nostra controparte americana. Ricordo una discussione con Bush riguardo a delle informazioni segrete secondo le quali alcuni uomini dei servizi segreti degli Stati Uniti avevano contattato dei militanti armati del Caucaso, non fornendo loro solo generico appoggio politico, ma supporto tecnico che prevedeva, ad esempio, lo spostamento di combattenti da un luogo all'altro. Ricordo che ne parlai con il presidente americano e lui mi disse che si sarebbe informato. Per chiudere la vicenda, ricevemmo in seguito una comunicazione ufficiale della CIA in cui ci comunicavano che i loro uomini avevano il diritto di mantenere i rapporti con i rappresentanti dell'opposizione e che avrebbero continuato a farlo. Era evidente che la CIA non si limitava solo a parlare con l'opposizione, ma che collaborava concretamente con le forze terroriste cecene, anche se... se li dipingeva come semplici forze di opposizione, una vera presa in giro. E tutto questo mentre combattevano il terrorismo in Afghanistan. Mi sembra un comportamento contraddittorio e strano, direi. Ormai siamo abituati a queste contraddizioni. Immagino che la lettera sia top secret e che non sia possibile vederla. Non credo sia il caso, le basti il fatto che gliene abbia parlato. Ma George ricorderà certo la nostra conversazione. La nostra conversazione è stata un'opposizione. che è individerato, libero, democratico, in pazza e sicuro. Oggi ci ringraziamo la Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia e Slovenia. Li saliamo nella campagna dell'Organizzazione della Trattata dell'Organizzazione dell'Atlantica. Questo è un momento speciale nella storia speranza della libertà di umano, come l'America propria esercita il suo supporto per l'Albania e la sua entrata in Nato. Ho sentito da signor Gorbaciov e anche da importanti figuri americane, incluso James Baker, che c'era un patto con l'Unione Sovietica di non espandere la Nato verso l'est. Sì, quando venne decisa la riunificazione della Germania e con il ritiro delle truppe sovietiche dall'Europa dell'est, altri funzionari degli Stati Uniti e della Nato dichiararono congiuntamente e in più di un'occasione che l'unica cosa di cui poteva essere certa l'Unione Sovietica era che il confine orientale della Nato non sarebbe stato esteso oltre il confine orientale, quella che era stata la vecchia Repubblica Democratica tedesca. È stata una chiara violazione. Sì, ma non esisteva un accordo scritto e quello fu un errore di Gorbaciov. In politica è sempre meglio mettere tutto per iscritto, gli altri avevano solo parlato e lui si accontentò di questo. E non era il caso. La Nato, per quanto mi riguarda, è un reperto del passato. La Nato risale a un periodo di aspro confronto, è quasi una guerra non dichiarata tra i blocchi occidentale e orientale. Ma adesso il fatto di Varsavia non esiste più, come non esiste più l'Unione Sovietica e un blocco orientale. E quindi, che senso ha la Nato? La mia impressione è che per giustificarne ancora l'esistenza, la Nato si ha la costante ricerca di un pericolo esterno e che per questo ha costantemente bisogno di individuare un potenziale avversario. Quel mondo unipolare ipotizzato dopo la guerra fredda non è mai nato. Ma poi non capisco che cos'è un mondo unipolare. Comunque si cerchi di abbellire la definizione, la risposta può essere una e una soltanto. Un unico centro operativo che gestisca esercito, che prenda decisioni e che possa intraprendere azioni. È un mondo in cui tutto ricade sotto un'unica autorità e questa situazione, a mio parere, può diventare pericolosa non solo per chi vive all'interno del sistema, ma anche per la sua stessa sovranità, perché ne determinerebbe la fine. Ci sono paesi, e penso soprattutto agli Stati Uniti, che hanno allargato i propri confini in ogni direzione e questo è dimostrato dalle loro politiche economiche e culturali che impongono agli altri paesi. Attualmente la Nato è uno strumento della politica estera americana. Non ci sono alleati. Ci sono solo dei vassalli. Una volta che si entra nella Nato, diventa molto difficile resistere alle pressioni degli Stati Uniti che potrebbero portarvi ad ospitare qualunque sistema d'arma entro i propri confini. Parliamo di sistemi antimissili balistici, nuove basi militari e se serve anche nuovi sistemi offensivi. E noi? Cosa dovremmo fare? È evidente la necessità di contromisure, quindi ecco spiegati i nostri nuovi sistemi missilistici, messi a protezione dei nostri interessi nazionali. E via così con l'escalation. Ora, lo sa perché abbiamo deciso di rispondere all'espansione della Nato? Principalmente perché ci siamo resi conto della minaccia che sta rappresentando questa organizzazione sotto un'apparente nuova veste. Quello che ci preoccupa di più è il processo decisionale al suo interno. E io so bene come avviene. Ricordo che in uno dei miei ultimi incontri a Mosca con il presidente Clinton, che era alla fine del suo secondo mandato, gli dissi che non escludevo la possibilità che la Russia potesse decidere un giorno di entrare nella Nato. E lui mi rispose, perché no? Tra le facce preoccupate del suo staff. Glielo avete chiesto? Ora le spiego il nervosismo della sua delegazione alla mia idea. In caso di adesione avremmo naturalmente avuto anche noi voce in capitolo. Avremmo sempre potuto dire la nostra e non avremmo permesso che l'America ci manipolasse. Ma i nostri amici americani non l'avrebbero mai accettato. Sotto il comando della Nato dovreste condividere tutte le vostre informazioni sul nucleare. La nostra apertura verso i nuovi partner era ovviamente allargata anche verso gli Stati Uniti. E dopo la fine dell'Unione Sovietica e il cambio del nostro sistema politico eravamo disposti a condividere anche i nostri più importanti segreti nucleari. Non avremmo avuto più segreti. Sì, certo. Avevamo supervisori americani nelle nostre fabbriche proprio lì dove venivano prodotte le nostre armi nucleari costantemente. Vede, eravamo abbastanza aperti. Sì. E non c'era nessuna minaccia aggiuntiva verso di noi. Certo. Ma c'è una cosa curiosa. Il presidente del vostro paese cambia ma la politica non cambia. È una questione di principio. In passato i sovietici erano molto realisti riguardo alla politica americana e hanno sempre cercato di comprendere le intenzioni degli americani. Non so se questo sia ancora vero, immagino di sì. Perché il presidente fa delle affermazioni molto precise riguardo alle intenzioni degli Stati Uniti. Sì, è evidente. Ma secondo me, finché continuerete a considerarvi l'unica superpotenza al mondo e a coltivare come state facendo il concetto di esclusività, manterrete una mentalità imperialista che a sua volta richiederà una politica estera in grado di giustificarla agli occhi della vostra stessa opinione pubblica. Di conseguenza, anche i vostri leader saranno obbligati a seguire questa logica che è poi contraria anche agli interessi del popolo americano perché porta a problemi sempre nuovi e a deficienza del sistema. Se non si può avere il controllo assoluto, è una politica che non può condurre da nessuna parte. Gli americani hanno mai smesso di pensare che la Russia fosse un nemico? Una volta per il comunismo, una volta per il putinismo. C'è sempre stata l'idea che voi foste dei nemici. Dopo la Seconda Guerra Mondiale era emerso un sistema bipolare in cui gli schieramenti erano molto ben delineati, ma francamente l'azione dell'Unione Sovietica dell'epoca fu quanto mai approssimativa, primitiva. E questo offrì agli Stati Uniti la scusa per creare un organismo come la NATO e scatenare così la guerra fredda. Ritengo che allora l'America si sentisse all'avanguardia del cosiddetto mondo civilizzato e quando c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica devono aver pensato che gli Stati Uniti potessero fare praticamente quello che volevano e farlo impunemente. Ma c'è sempre il grosso rischio che in questa situazione una persona o un paese possa commettere degli errori. Perché non si sente più il bisogno di analizzare la situazione o pensare ad eventuali conseguenze. Così il paese diventa inefficiente e gli errori iniziano a susseguirsi. Ecco la trappola in cui sono caduti gli americani. Questo fa nascere una domanda più grande. Qual è la politica degli Stati Uniti? Qual è la sua strategia nel mondo, in tutto il mondo? Risponderò sinceramente e con tutti i particolari del caso a questa sua domanda. Ma soltanto quando mi sarò ritirato? Beh, io potrei dire qualcosa e lei potrebbe rispondere. Si può fare? Potrei dire io penso o in molti pensano che la strategia degli Stati Uniti in questo momento è di distruggere l'economia russa, di farla tornare ai livelli degli anni 90 e di cambiare la vostra leadership creando un nuovo alleato per gli Stati Uniti e in pratica dominare la Russia come succedeva una volta. E forse pensano che sono stati troppo buoni e che avrebbero dovuto togliervi il vostro arsenale nucleare. No, questa linea di pensiero e di politica è piuttosto plausibile. Se è questo il caso, allora credo che sia una politica sbagliata. Proprio perché una tale visione del rapporto con la Russia non è orientata al futuro. Le persone che credono queste cose non guardano come sarà il mondo tra 25 o 50 anni. Se lo facessero, allora probabilmente andrebbero a costruire i rapporti con la Russia sotto una luce diversa e non proverebbero a fare della Russia il proprio vassallo. Capisco che la Russia non si arrenderà. Vuole sostenere la sua economia fino all'ultimo. Sotto Stalin, i russi hanno donato i loro gioielli, i loro beni personali e hanno dato fino all'ultimo dollaro per sostenere il governo contro i nazisti. Non si tratta dell'ultimo dollaro, ma della vita stessa. Il nostro popolo ha combattuto fino all'ultimo respiro. C'era in gioco la vita. E la componente più importante della Russia è proprio il popolo russo e la sua coscienza nazionale, l'impossibilità anche soltanto di ipotizzare una vita al di fuori della sovranità nazionale. È questa convinzione e non certo la minaccia nucleare di una potenza straniera che dovrebbe convincervi della necessità di costruire rapporti più costruttivi con la Russia. E in quel caso non dovremmo più spendere tanto per la difesa. Dio un'occhiata. L'anno scorso, in dollari, abbiamo allocato 40 miliardi per le necessità della difesa, mentre gli Stati Uniti hanno allocato più di 460 miliardi, quindi è più di dieci volte tanto. E quest'anno, da quello che sappiamo, nel 2016, gli Stati Uniti alloccherano più di 600 miliardi di dollari per la difesa. Beh, è semplicemente troppo. Più della spesa totale per la difesa di tutti gli altri paesi del mondo. Ci saranno le elezioni presidenziali quest'anno e nessuna delle questioni come l'ambiente o le nostre alleanze è stata discussa neanche una volta. Tutto nella retorica delle elezioni è essere forte, essere più forte, ricostruire l'esercito. E questo vale per entrambi i lati, inclusa Hillary Clinton, che è sicuramente diventata una neoconservatrice. Ha una politica molto forte contro la Russia, era a favore dell'intervento in Siria e così via. E abbiamo bisogno di mandare un messaggio molto chiaro a Putin che questo tipo di belligeranza, questo tipo di testamento di fronte dovrà essere rispondi. Inoltre, il Pentagono ha recentemente annunciato che la Russia è la minaccia numero uno per gli Stati Uniti ed è un'affermazione abbastanza rigorosa. Se vuoi parlare di una nazione che potrebbe posare un'esistenziale ai Stati Uniti Uniti, dovrei parlare alla Russia e se guarda il loro comportamento non è nulla di un'allarmi. Non siamo al corrente e di certo non ne siamo soddisfatti. Ad ogni modo, noi siamo e resteremo disponibili al colloquio praticamente in ogni campo. Per farle un esempio, noi ci rendiamo conto che la retorica è parte essenziale di ogni campagna elettorale, ma negli Stati Uniti è tornato di moda il ricorrere alla minaccia russa per raccogliere voti e farsi eleggere. E dopo chi vince viene a dirci non vi preoccupate, dovete capire che qui si trattava solo di vincere le elezioni. Adesso tornerà tutto come prima. Ad ogni modo, io ritengo sia un grosso errore sacrificare le relazioni internazionali in nome di questioni di politica interna. Cari cittadini russi, amati veterani, amati soldati e marinai, ufficiali combattenti, tenenti, generali, buona giornata della vittoria, la parata è stata molto emozionante. La marcia, la precisione, l'orgoglio. Mi è piaciuto anche il contingente femminile. Bene, questa è stata la prima volta per loro. Ho visto che oggi c'era anche il signor Gorbaciov. Non è andato a salutarlo. In realtà è il protocollo ad invitarlo alle cerimonie ufficiali. Volevo dire che il presidente non si è fermato per salutarlo. Non mi ero neanche accorto che ci fosse. Non lo vede mai? Non lo incontra mai? Non lo invito spesso al Cremlino e ha fatto anche parte di un mio gabinetto di lavoro. Quindi lo vede? Sì, ma anni fa. Sì, sì, anni fa. Di certo la sostiene sulla questione della Nato. Sì, per quanto riguarda la Nato e anche per quanto riguarda la Crimea, da quello che so. Lui ha le sue opinioni. A volte la vediamo allo stesso modo, a volte no. è un peccato che non ci fosse anche l'ambasciatore americano. I have concluded the ABM treaty hinders our government's ability to develop ways to protect our people from future terrorists or rogue state missile attacks. Today I have given formal notice to Russia that the United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. Il Trattato sul Sistema Antimissili Balistici ha rappresentato la pietra angolare di un impianto che ha garantito al mondo la sicurezza. Inizialmente fu il Presidente Clinton a cercare di convincermi ad appoggiare il ritiro americano dal trattato sui sistemi antimissili balistici. Senza motivo? Sì, senza che ci fosse un motivo reale. Parlava di una possibile minaccia iraniana. Poi fu il Presidente Bush a provarci di nuovo e io gli proposi di lavorare insieme allo sviluppo di un nuovo sistema antimissili balistici. Un'intesa tra Stati Uniti, Russia ed Europa. Ma sfortunatamente la nostra proposta di collaborazione non è per alcun seguito concreto. A questo punto per salvaguardare la sicurezza e la stabilità internazionale oltre che l'equilibrio di potere che per noi è assolutamente strategico abbiamo dovuto sviluppare nuove capacità offensive vale a dire vettori in grado di superare qualunque sistema antimissili e la risposta di Washington fu molto semplice. Ci dissero soltanto che il loro sistema non era in funzione antirussa e che erano certi che anche il nostro non era in funzione antiamericana. A quel punto era andata. Contenti loro? Va bene quindi c'erano delle regole nuove le regole dell'America. Ci sono due minacce in atto contro la Russia. La prima è la vicinanza ai nostri confini nazionali di questo nuovo sistema antimissile voluto e sviluppato dagli americani. Parlo dei paesi dell'Europa dell'Est. La seconda minaccia è rappresentata dalle piattaforme di lancio di questi missili che possono essere trasformate in pochissimo tempo. Parlo di qualche ora in piattaforme offensive. Se questi sistemi antimissili balistici venissero davvero piazzati nell'Europa orientale quindi estremamente a ridosso dei nostri confini o su navi che incrociano nel Mediterraneo o eventualmente nel mare del nord o in Alaska. L'intero territorio russo verrebbe praticamente circondato. come comprenderà si tratterebbe di un altro grande errore strategico commesso dai nostri partner perché vede tutte queste azioni avrebbero da noi una risposta adeguata. Questo non significherebbe altro che una nuova costosa corsa agli armamenti. ora la nostra risposta sarebbe meno sofisticata ma il sistema a cui stiamo già lavorando sarà molto efficace salvaguardando quindi la la cosiddetta parità strategica un aspetto di importanza vitale. È quello che hanno cercato di fare Reagan e Gorbaciov nel 1986. Volevano addirittura arrivare a un completo disarmo. Lei certo ricorderà la corsa alla bomba atomica. Quando gli Stati Uniti svilupparono la prima generazione di bombe l'Unione Sovietica non si fece certo pregare e sviluppò un suo programma. Noi avevamo al lavoro scienziati russi ma anche molti tedeschi e i nostri servizi di intelligence ricevettero anche molte informazioni importanti dagli Stati Uniti. Ricordo soltanto l'esecuzione dei famosi coniugi Rosenberg all'inizio degli anni 50. I Rosenberg avevano solo fatto da tramite non si erano procurati loro certe informazioni. Ma allora chi c'era dietro? Gli stessi scienziati che avevano sviluppato la bomba atomica per conto degli americani? E perché l'avrebbero fatto? Perché ne conoscevano il pericolo avevano fatto uscire il genio dalla lampada e nessuno ce l'avrebbe più rimesso. Ora quel gruppo di scienziati di tutto il mondo dimostrò più intelligenza di gran parte dei politici fornendo all'Unione sovietica le informazioni necessarie a riportare in pari il cosiddetto equilibrio del terrore. E che succede ora? Vogliono ricominciare da capo? Questo sarebbe un grave errore. Allora la smetta di chiamarli amici. Spesso li ha chiamati i nostri amici. Ma il dialogo non si può abbandonare. Dovrebbe augurarmi un felice 4 luglio visto che sono americano. Ah certo. Allora auguri. È il nostro giorno dell'indipendenza. Sì lo so. Lo so bene. Allora se dovesse esserci una guerra l'America dominerebbe? Sì o no? No. No. Sarebbe la Russia quindi a sopravvivere. Non sopravviverebbe nessuno. No one would survive such a conflitto. anche con uno scudo antimissile? Almeno al momento uno scudo antimissile non potrebbe proteggere l'intero territorio americano e poi c'è anche da prendere seriamente in considerazione la minaccia che deriva dall'illusione di sentirsi protetti che può condurre ad atteggiamenti ancora più aggressivi. Ecco perché è così importante prevenire azioni unilaterali e perché in passato abbiamo proposto lo sviluppo congiunto di un sistema antimissile. Inizialmente fu proposto da John Kennedy insieme a Nikita Khrushchev nel 1963. Vede se vogliamo cominciare a parlare del passato vorrei ricordarle come è iniziata davvero la cosiddetta crisi dei missili. Io non sono un ammiratore di Khrushchev ma il dispiegamento di alcune batterie di missili sovietici a Cuba venne provocato dall'arrivo di missili americani in Turchia. Da lì i missili avrebbero potuto raggiungere l'Unione sovietica in pochissimi minuti. Ecco perché Khrushchev mandò i missili a Cuba non fu certamente lui a scatenare la crisi. Lo so erano anni assurdi. Stanley Kubrick un regista che ammiro molto ha fatto un film meraviglioso intitolato Il dottor stranamore come ho imparato ad amare la bomba lo ha visto? No lo deve davvero vedere ne vale la pena gliel'assicuro è un classico il signor Kennedy doveva gestire un sistema militare che era cresciuto sempre di più dalla seconda guerra mondiale e i generali a quel punto sapevano che l'unione sovietica non aveva la capacità di competere con l'America e molti di loro credevano che quello fosse il momento di colpire avevano intenzione di attaccare la Russia Kennedy credeva che fossero pazzi ma siccome ci sono stati degli sviluppi a Berlino e a Cuba la situazione si è fatta più pericolosa gli Stati Uniti sono diventati più di destra dal periodo di Ronald Reagan adesso a sinistra o quella che si può definire sinistra c'è Hillary Clinton uno dei candidati democratici che sta facendo delle affermazioni molto aggressive riguardo all'Ucraina e compara il signor Putin Hitler se vi sembra familiare è perché è la stessa cosa che ha fatto Hitler negli anni 30 diceva che i cittadini di origine tedesca che si trovavano in Cecoslovacchia in Romania e in altri posti non venivano trattati bene voleva andare a proteggere il suo popolo ed ecco perché la situazione era così tesa per noi non è certo una novità ci conosciamo personalmente una donna molto dinamica ora anche noi potremmo fare certi confronti ma per nostra cultura politica evitiamo certi riferimenti gli Stati Uniti non hanno mai vissuto una guerra sul suolo nazionale già e per molte persone per molte persone importanti la guerra è una specie di gioco ho paura che questi sentimenti siano ancora presenti in America nei neoconservatori che sono a favore della guerra e vogliono far leva su questo per vincere è pericoloso ho paura anche io e consenso è pericoloso l'uomo pezzi è pericoloso i ragazzi Why didn't you tell the world, eh? It was to be announced at the party congress on Monday. As you know, the premier loves surprises. We'll meet again Don't know where Don't know where Molte di queste immagini al tempo erano inedite e sono state mostrate in questo film. Grazie per avermi accontentato. Penso che Dimitri, il premier russo, fosse molto bravo. Ci sono alcuni aspetti di questo film che ci dovrebbero far pensare, nonostante sia una divertente ricostruzione. presenta dei motivi di preoccupazione che definirei senz'altro molto seri. Questa è una minaccia che esiste realmente. Non sono affatto situazioni basate su nulla. Se ne ha parlato di guerra nucleare e della fine del mondo. Gli scienziati che hanno lavorato alla bomba ne hanno discusso con il presidente e hanno detto che Truman ha agito comunque. Il fatto è che da allora non è cambiato quasi niente. L'unica differenza è che i moderni sistemi d'arma sono diventati più sofisticati. Ma l'idea di un'arma finale e l'impossibilità di controllare efficacemente questo genere di armi è un problema sicuramente esistente ancora oggi. Anzi, è diventato ancora più grave. Ha ragione. Per lì. È molto gentile. Bene. È vuoto. Ecco un tipico regalo americano, guardate. Grazie. Arrivederci. Salve, signor Stone. È molto colorato. Sembra un supererome. Se sta bene. Quando sono sul ghiaccio sono affatto, forte come un supereroe. Cerco sempre di essere all'altezza. Sì, noi saremo lì a guardarla. Ha qualche consiglio? Grazie. Ma deve fare anche il tifo per me, non limitarsi a guardarmi. Ha già detto agli altri giocatori che segnerà due gol? Questa è una cosa che non si può mai dire nello sport. Devi solo cercare di fare del tuo meglio e basta. Lo colpiscono duramente come gli altri. Perché non dovrebbero? Adesso vado. Hai iniziato a giocare a 40 anni? No, solo due o tre anni fa. Tre anni fa? Avevo già 60 anni. Davvero? A 50 anni? Incredibile. No, 60. Ah sì, 60, scusi. Continuo a pensare che ne abbia 53, mi sbaglio sempre, scusi. Incredibile. Prima non sapevo neanche pattinare. Dico sul serio. Lo so, l'ho sentito, sì. Ho imparato da grande. È sempre molto interessante imparare qualcosa di nuovo. Una volta è caduto. No, mi sembra due. Era stanco? Sì, due. In realtà sono scivolato. Le facevano male le gambe? No. Alla sua età andiamo. Sì, sì, un po', sì. Se venisse colpito forte potrebbe rompersi un osso. A volte succede. Sì. Allo sport è anche questo. È tutta la vita che faccio sport. Non mi sono mai fatto male. Se uno dei giocatori ammettesse qui, in Russia, di essere gay, quale sarebbe la reazione? C'è una cosa che vorrei dirle. Qui non ci sono restrizioni e non ci sono punizioni basate sul genere o sul sesso. Inoltre ci sono molte persone che hanno rivelato il loro orientamento sessuale non tradizionale. Abbiamo mantenuto i nostri rapporti con loro. Molti hanno raggiunto dei traguardi davvero notevoli nei campi in cui lavorano. E molti sono anche stati premiati dallo Stato per il successo che hanno ottenuto. Non c'è nessuna restrizione. Ma c'è una legge sulla propaganda. C'è una legge che proibisce la propaganda gay solo ed esclusivamente verso i minori. Capisco. La ragione è che vogliamo che i bambini abbiano l'opportunità di crescere senza che vengano influenzati in nessun modo. Una volta che saranno cresciuti possono decidere autonomamente. Possono organizzare come vogliono le loro vite, incluse le loro vite sessuali. E una volta che hanno compiuto 18 anni, che è l'età in cui si diventa legalmente adulti in questo paese, non hanno più nessuna restrizione. Ecco perché abbiamo questa legge. Ma c'è una sorta di tradizione qui in Russia. C'è una tradizione di mascolinità che è davvero molto forte. Ma diciamo che in un certo senso potrebbe aver ragione. Ma in Russia non abbiamo sicuramente la situazione di certi stati islamici dove c'è la pena capitale per gli omosessuali. No, certo è diverso. E in Russia la società ha in grandissima parte un approccio molto liberale. Questo succede anche nell'esercito. Non ci sono restrizioni. Nessuna restrizione. Insomma, se si fanno la doccia in un sottomarino con un uomo omosessuale avrebbero qualche tipo di problema? Io preferirei non fare la doccia con lui. Insomma, perché provocarlo? Ma se ricordi anche che sono un maestro di judo. È vero, siamo molto legati alle tradizioni. Come capo dello Stato, ritengo sia mio dovere salvaguardare i tradizionali valori della famiglia e cercare di perpetuarli. I matrimoni gay non generano figli. Dio ha deciso. E noi dobbiamo pensare alla famiglia e ai loro figli nel nostro paese. Questo però non equivale a perseguitare nessuna minoranza, assolutamente, in nessun modo. Ma anche in una società con questo tipo di problemi ci saranno molti orfani e alcuni di loro potrebbero essere adottati da coppie omosessuali. Sì, è possibile. Però, allo stesso tempo, non posso dire che la nostra società lo accetti ben volentieri. Sarò sincero, guardi. Credo che un bambino avrebbe più libertà se crescesse in una famiglia tradizionale perché non sarebbe influenzato e in questo modo avrebbe più scelta. Persone gay in Russia dicono che c'è stato un aumento di intolleranza, di scriminazione e di violenza. Tutto è iniziato quando il Parlamento russo ha passato quella che poi è diventata la legge sulla propaganda gay. Moscò non è Sodoma. Siamo qui per supportare le persone normale che vogliono creare famiglie. Ho sentito che si allena molto. Quante volte a settimana? Ogni giorno. Tutti i giorni, no? Sì. Ma è troppo. No, è normale. Prima nuoto e poi palestra. No, no, prima palestra e poi nuoto. Certo, sì. Per rilassare i muscoli. Lei pensa quando nuota? Le vengono delle idee. Sì, non faccio altro. Si rilassa? Direbbe che è come meditare. No, è che nuotando mi vengono in mente le cose più assurde. Qui si gioca a badminton? Tennis. Tennis. Questa è una statua del fondatore del Judo. Il fondatore del Judo? Le piace? Sì, molto. Ne sono felice. Tutta l'energia, l'aggressività, la sfoga con il Judo. Sì, è quello che cerco di fare. E poi mi serve anche per scaricare l'adrenalina. Ha un allenatore? Un maestro di Judo? Sì. Sì, ma adesso sono io il maestro. I think I'm a master. Vede, in realtà, gli allenatori servono a quegli atleti che vogliono competere nelle gare. Io invece lo faccio soltanto per divertimento e comunque pratico il Judo da quando avevo 13 anni. L'avrà aiutato moltissimo. E da lì non ho mai smesso. Vorrei farle presente alcune preoccupazioni che sono nate da una rivista degli affari esteri. Io la considero il punto di vista ufficiale del governo, visto che viene pubblicata dal Consiglio per le relazioni estere. Un'associazione molto potente che ha molti esperti sul campo e che scrivono della loro esperienza qui in Russia. E alcuni di loro dicono di essere preoccupati. Qualcuno sogna e qualcuno vuole pensare questo di me. Sono sogni, qualcosa che vogliono, la caduta della Russia. Questa è la loro opinione. Sono solo sogni? Sì. Ma questa non è la realtà. Chi scrive queste cose lo sa benissimo. Capisco. Questo è il loro punto di vista, è ufficiale e viene ascoltato a Washington. Volevo dirle che è questo che le deve affrontare. Ma in realtà in Europa e negli Stati Uniti ci sono le persone più diverse, persone e opinioni molto diverse. Ci sono quelle che guardano a 30 anni da oggi e si interrogano sulle sfide del futuro e hanno un atteggiamento diverso rispetto alla Russia. Poi ci sono quelle che considerano i propri interessi politici tra un'elezione e l'altra. Perché lei, dopo il 2001, perché ha appoggiato la presenza delle truppe americane? All'epoca ero convinto della presenza di una sfida comune che dovevamo affrontare, quella del terrorismo dall'Afghanistan. Pensavo fosse necessario appoggiare gli Stati Uniti. Tra l'altro il presidente americano aveva assicurato che non sarebbero rimasti per sempre sul posto. Che si sarebbe trattato soltanto di qualche anno. Quindi disse che non sarebbero rimasti lì per sempre? Sì, è esattamente quello che disse. Ci chiese di aiutarlo perché avrebbero raggiunto i loro obiettivi e poi si sarebbero ritirati. Sì, è quello che disse. Quando è cambiato il vostro rapporto? Praticamente nel 2007 a Monaco avevate un punto di vista diverso, giusto? Cosa è successo tra il 2003 con l'invasione dell'Iraq e la rivoluzione arancione in Ucraina nel 2004? Che cosa ha pensato quando è iniziata la rivoluzione ucraina? Centinaia di migliaia di ucraini hanno protestato oggi nelle strade contro i risultati delle elezioni presidenziali appoggiando il loro candidato di opposizione Viktor Yushchenko contro il primo ministro prorusso Viktor Yanukovych. Affermano che la vittoria di Yanukovych è stata raggiunta grazie a schede falsificate e l'intimidazione dei votanti. Viktor Yanukovych aveva vinto democraticamente quelle elezioni. Ma il popolo non accettò il risultato e ne scaturirono dei gravi disordini, disordini appoggiati apertamente dagli Stati Uniti. Poi in violazione della Costituzione del paese venne indetto un terzo turno di elezioni. Si trattò in pratica di un vero e proprio colpo di Stato mascherato. Oggi in Ucraina i dimostranti antigovernativi hanno qualcosa da festeggiare. Il Parlamento ha votato l'allontanamento del candidato che era stato dichiarato vincitore nelle discusse elezioni presidenziali. Il leader dell'opposizione Viktor Yushchenko si è unito ai suoi sostenitori per festeggiare. Con la maggior parte dei voti contati l'economista con ideali occidentali è in vantaggio di nove insormontabili punti. Ha ringraziato le persone che sono scese in strada per chiedere un cambiamento democratico. Poco prima il suo oppositore, il primo ministro Viktor Yanukovych, pur indietro nei voti, non ha ammesso la sconfitta. È così che i politici pro-Occidente sono arrivati al potere come il signor Yushchenko e la signora Timoshenko. Non erano certamente tra i nostri candidati preferiti. Eppure non abbiamo chiuso le porte in faccia alla nuova leadership ucraina. Io sono adatta a Kiev e loro sono venuti a Mosca. Ci siamo incontrati in paesi terzi e abbiamo anche varato dei nuovi e proficui progetti di collaborazione. Ma la loro politica non venne accettata bene in Ucraina. Ed è per questo che alla fine del primo mandato al potere del signor Yanushchenko venne eletto alla presidenza il signor Yanukovych. La filosofia della politica estera americana in questa regione si limita al tentativo di prevenire in qualunque modo un possibile riavvicinamento dell'Ucraina alla Russia, perché è visto come una grande minaccia. Secondo alcuni un riavvicinamento porterebbe a un rafforzamento dell'influenza russa sul paese. Per questo si tratta di un riavvicinamento che va evitato. Ora, secondo me una politica del genere non ha certo a cuore la libertà del popolo ucraino, né il suo benessere, ma ha solo gli interessi degli Stati Uniti e dell'Europa nella regione. Appoggiare in questo modo gli elementi nazionalisti ucraini, soprattutto quelli più radicali, equivale a gettare benzina sul fuoco in una situazione già molto critica. Anche in questo caso è evidente che l'idea di fondo è quella di approfondire la frattura esistente nel paese, ma noi dovremmo avere una visione molto più ampia. Qui non si tratta solo di un semplice confronto o del tentativo di attirare un paese satellite dalla propria parte. Se adesso guardiamo ai prossimi 25 anni, possiamo avere una idea abbastanza accettabile di come potrebbe svilupparsi il mondo. E qui è la nostra filosofia che va cambiata, la nostra stessa visione. Al tempo ha lasciato perdere, ma a un certo punto, tra il 2004 e il 2007 a Monaco, la sua visione è cambiata, perché l'Iraq e l'Afghanistan sono stati due disastri. Deve aver cambiato per forza punto di vista. A Monaco chiesi soltanto come affrontiamo la situazione che abbiamo davanti. In fondo, l'Unione Sovietica era collassata. Non rappresentava più un nemico. Perché allargare ancora la Nato? Contro chi? Anche volendo assicurare la sicurezza di certi paesi, perché bisognava allargarla? In fin dei conti, sarebbe bastato concludere degli accordi bilaterali sulla base di una mutua assistenza, senza dover creare un nuovo avversario. E invece pensi a che cosa è successo. Non posso aspettare a visitare con il mio amico Vladimir Putin a Shanghai per rinunciare, una volta, che la guerra fredda è finita. È finita. E che ci sono nuove sfide che facevamo. E subito dopo, gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato antimissili balistici. Il bello è che ci avevano sempre detto di non preoccuparci in quel senso. Perché era una decisione presa in funzione anti-iraniana. Ma il problema Iran adesso non è più tale. C'è un trattato e l'Iran ha rinunciato al nucleare militare, con ovvia ed evidente soddisfazione americana. però lo sviluppo di un nuovo sistema antimissili balistici sta andando avanti e alcuni elementi sono già in Europa. Contro chi? È evidente che anche noi dovevamo fare qualcosa. Capisco. Sappiamo che Bush ha supportato l'offensiva georgiana nel 2008. Ma per noi è stata una totale sorpresa prendere dell'appoggio del presidente Bush al presidente Sakashili e venire descritti come gli aggressori. Una cosa del tutto falsa. Fili di carri armati russi e truppe si sono riversate nell'ex repubblica sovietica della Georgia. La Georgia ha attaccato la Repubblica dell'Ossetia del Sud con l'obiettivo di riportarla sotto il controllo di Tbilisi. La Georgia ha ripreso gli attacchi aerei e i bombardamenti su Schinvali, la principale città dell'Ossetia del Sud. Centinaia di civili sono stati uccisi nei giorni successivi. Non riuscivo a credere a ciò che ascoltavo e vedevo sulla presunta invasione russa. Tutti ci dipingevano come i responsabili. Ad ogni modo, milioni di telespettatori ci hanno creduto. Nonostante il signor Sakashvili avesse anche dichiarato pubblicamente che le sue truppe avevano iniziato l'attacco. C'era un'imperazione, la vostra governo ha iniziato il suo attento di riportare il sud di Ossetia 24 ore fa. No, non ci siamo. C'era un'imperazione in retrospeccia? No, non ci siamo. A 24 am, la notte, i russi APC iniziarono a riuscire a trattare in territorio giordiano. E là abbiamo dovuto agire, là abbiamo dovuto aprire l'artillaria, là abbiamo dovuto prendere le misure, perché era un caso di intervento. Crede che gli Stati Uniti o la Nato in qualche modo stessero supportando Sakashvili o che gli stessero dicendo che fosse giusto provarci? Non posso certamente escludere al 100% che qualcuno non l'abbia spinto a farlo o che non l'abbia appoggiato in qualche modo. E non credo fosse così audace da tentare da solo una mossa del genere. Ad ogni modo, nessuno ha cercato di fermarlo. Lo sa che molti americani pensano che la Russia e l'America siano entrambe in torto per quanto riguarda l'intelligence? La pensano così per via del vecchio KGB? No, noi siamo meglio degli Stati Uniti perché non abbiamo tutte le loro risorse. Se le avessimo ci comporteremmo male come loro. Di stesso serio? Credete di non essere tecnologicamente avanzati? Non parlo dei soldi, parlo di tecnologia. Ma di certo gli Stati Uniti finanziano in modo massiccio i servizi segreti, cosa che noi non possiamo permetterci. Non parlo di questo. Vede, dopo la fine del periodo sovietico con tutto il suo fardello di forte autoritarismo i russi non nutrono più molta simpatia per i servizi segreti quando questi accumulano troppo potere. La Russia sta raccogliendo dati di comunicazione di massa? Di qualsiasi tipo? No, no, glielo assicuro. Sono per lo più cose ristrette? Sì, sì, è così. Stiamo parlando di raccolta, non di lettura. Solo della raccolta, usando il sistema telefonico o la rete e internet. No, no, in questi anni non siamo mai ricorsi a tecniche così generalizzate. Non ne avremo neppure i mezzi. Mi è stato detto che il 15% della popolazione è musulmana qui in Russia. Molti di loro sono a Mosca. Sì, esatto. E mi vuole dire che non state raccogliendo le comunicazioni dei musulmani? No, no, glielo assicuro. In quanto ai conflitti tra... Sì, tra Islam, cristianesimo e giudaismo qui non esistono. E la nostra comunità islamica è composta da fedeli cittadini russi che non hanno altra patria se non quella russa. Ma possiamo continuare questa conversazione un'altra volta? Sì. Buonanotte, presidente. Arrivederci. La moglie di Oliver. Ha piacere di conoscerla, signora. Molto piacere di conoscerla. È la sua prima volta in Russia? Sì, è la mia prima volta in Russia. Non è data a San Pietroburgo? No, no, non ancora. Deve andarci assolutamente. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Voglio parlare un po' di Snowden. Lei ha detto che aveva buoni rapporti con Bush e credo che sia stato così anche con Obama. ha collaborato con lui sulla Siria, sull'Iran. E poi all'improvviso avete dato asilo a Edward Snowden. Non è esattamente così. Ora, prima... Prima di tutto, i nostri... i nostri rapporti con gli Stati Uniti sono peggiorati per l'appoggio che hanno offerto ai terroristi del Caucaso e questo è sempre stato un problema nei nostri rapporti bilaterali. Quindi anche senza Snowden c'erano già molte cose a compromettere i nostri rapporti. Nel giugno del 2013 lei riceve una chiamata, immagino, in cui le dicono che Snowden sta arrivando. Penso che abbia ricevuto delle chiamate dall'America, inclusa quella di Obama. Come si è evoluta la situazione e come l'ha gestita? Il nostro primo contatto reale con il signor Snowden è avvenuto mentre lui era ancora in Cina. All'epoca sapevamo solo che si trattava di una persona che si batteva per i diritti umani e che si era schierato contro certi interessi, magari anche i suoi. Non si può sapere. Il fatto è che purtroppo i nostri rapporti con Washington erano già abbastanza difficili e non volevamo peggiorare la situazione. E comunque il signor Snowden non ci aveva offerto nessuna informazione, ma solo la semplice possibilità di lottare insieme per un ideale. Ora, questa è una cosa che gli va sicuramente riconosciuta, ma poi è scomparso nel nulla. È scomparso? Sì, finché non ho ricevuto un rapporto secondo il quale si era imbarcato su un aereo diretto a Musca, ma con l'intenzione di cambiare poi volo e proseguire per non ricordo più quale destinazione dell'America Latina. Per Cuba, sì. Confesso di non ricordare bene. E poi in Ecuador, sì. Sì, in ogni caso il paese è di destinazione, non era proprio entusiasta l'idea di riceverlo. È preciso che questa informazione non veniva da una nostra fonte, ma che era stata passata alla stampa. Quello che è certo è che ormai non poteva più proseguire. Era già in aereo? Sì, era già in aereo. E così rimase bloccato nella nostra area transiti. È un uomo molto coraggioso, in certi casi probabilmente anche un po' incosciente. Comunque è rimasto per qualche tempo ospite dell'area transiti, nell'area intercontinentale, finché non gli abbiamo accordato un visto temporaneo. Ovviamente gli americani hanno subito chiesto l'estradizione e ovviamente noi l'abbiamo negata. E perché? Perché tempo fa, quando abbiamo proposto agli americani un trattato di cooperazione su eventuali contenziosi legali, una nostra iniziativa, che avrebbe regolato anche l'istituto dell'estradizione, gli Stati Uniti hanno posto un netto rifiuto su tutta la linea. Inoltre è preciso che Snowden non aveva infranto nessuna legge, nessuna legge rossa. E così abbiamo rifiutato. Come del resto ha fatto Washington con alcuni criminali che hanno chiesto asilo negli Stati Uniti. Per noi era inammissibile che potessero chiedere l'estradizione di Snowden. Obama l'ha chiamata? Di questo preferirei non parlare davanti alla sua telecamera. Ascolti, sono sicuro che da ex agente KGB deve aver odiato con tutto se stesso quello che ha fatto Snowden. No, affatto. Snowden non è un traditore. Non ha tradito gli interessi del suo paese e non ha rivelato nessuna informazione che potesse mettere a ripentaglio la sicurezza del suo popolo. Quello che fa Snowden lo fa pubblicamente. Va bene. Era d'accordo con quello che ha fatto? No. Crede che l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale si sia spinta troppo in là con le intercettazioni? Sì, ne sono convinto. In questo senso Snowden ha perfettamente ragione. Ma se ora vuole un mio parere personale su quello che ha fatto le dico che avrebbe dovuto evitare. Se non era d'accordo su quello che gli facevano fare poteva anche dimettersi. Ma lui è andato oltre. Ma ne aveva il diritto. E visto che lei mi ha chiesto se io fossi d'accordo allora le ripeto di no. Quindi sta dicendo che non avrebbe dovuto divulgare quelle informazioni e che visto che non era d'accordo avrebbe dovuto dimettersi come ha fatto lei quando si è dimesso dal KGB. Sì, infatti. Non avevo collegato le cose, ma è così. Io mi sono dimettersi perché non ero d'accordo con certe azioni intraprese dal governo e con il tentativo di colpo di Stato e in quel periodo non volevo più continuare ad occuparmi di intelligence. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale ha oltrepassato il limite? Sì. E cosa pensa delle attività di intelligence russa riguardo alla sorveglianza? Trovo che stiano facendo un buon lavoro. I nostri servizi di intelligence agiscono sempre secondo la legge. Punto primo. E secondo, cercare di spiare i propri alleati se li si considera veramente tali e non dei semplici vassalli è davvero indecente perché distrugge la fiducia e in definitiva compromette fortemente anche la propria sicurezza nazionale. Nel film abbiamo mostrato una scena in cui Snowden parla della raccolta dei dati. Questa è la ricerca di dati per il mese di marzo mondiale e-mails e scype france 70 milioni germania 500 milioni brazil 2 milioni in negli USA 3.1 milioni e-mails e calls La Russia è la seconda e l'America è la prima. Purtroppo questo è il modo di procedere dei servizi di intelligence di-di oggi. Ormai è così che funziona il mondo. Ma spiare i propri alleati resta comunque inammissibile. Eh? Beh, anche lei starà spiando gli Stati Uniti perché se l'America sta spiando voi è perché dicono che anche voi state spiando loro. Sì, certo. E non ho nulla in contrario al fatto che che gli Stati Uniti possano spiarci. Per quanto riguarda il rapporto tra Stati Uniti e Russia la vicenda di Snowden è stata benzina nel motore dei neoconservatori americani. Sembrava che loro volessero di nuovo prendere di mira la Russia visto che tutto è successo poco dopo la questione in Ucraina. Io credo che Snowden fosse una pedina in un gioco ed è probabile che loro lo volessero qui a Mosca per mettervi in imbarazzo. No, io non credo. Non sono così furbi. Davvero? Ne è sicuro? Vede, è anche per questo che sono certo che le autorità americane hanno agito sotto le pressioni del momento commettendo una gran quantità di errori. Sì. E sono questi ad aver salvato Snowden che altrimenti ora sarebbe in carcere. Comunque parliamo di una persona molto coraggiosa ha molto carattere ma non so che cosa ne sarà adesso della sua vita. Beh, una cosa è certa. Credo che l'unico posto al mondo in cui lui sia al sicuro è questo. È la Russia. Sì, lo credo anch'io. Il che è molto ironico. In passato i traditori russi andavano negli Stati Uniti qui invece è successo il contrario. Ma al giorno d'oggi non lo trovo più così strano. No, non volevo dire questo. Dico che... Perché per quanto molti cerchino di demonizzare la Russia questo è un paese democratico e anche un paese sovrano. ovviamente si possono curare dei rischi ma ci sono anche grandi opportunità perché sono pochissimi i paesi che possono vantare una sovranità assoluta con tutto ciò che ne consegue. Quasi tutti i paesi devono invece sottostare al peso degli obblighi che derivano dalle loro varie alleanze strategiche. si tratta in pratica di una limitazione delle proprie prerogative condotta diciamo così su base volontaria. Allora questa è la sua dacia è la sua residenza? È una delle residenze di stato ufficiale. La residenza di stato ufficiale e ci viene nei weekend? No, questa è praticamente casa mia diciamo che divido il mio tempo tra qui e il Kremlin ed è circa a 20-25 minuti da Mosca? All'incirca 20 minuti. È stato lei a proporre il ritorno della religione ortodossa nel sistema russo? Io 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 non c'entro è stato il popolo russo a deciderlo. Capisco ma c'è stato un rinascimento giusto? Sì sì è stato un rinascimento dovuto alla fine dell'imperante ideologia sovietica che ha lasciato un vuoto ideologico che a mio parere poteva essere colmato soltanto dalla dalla religione. Ho capito quando viene qui dove dove si siede? Ci sono sedie su cui si può sedere? In realtà non ci sono sedie la messa ortodossa si segue come fate? In piedi Ah capisco è una tradizione russo ortodossa le persone non pregano inginocchiate? Pregano in piedi? No a volte ci si inginocchia a mai ospiti vengono le sue figlie nei weekend? Sì oggi le mie figlie sono qui e ceneremo insieme quando noi avremo finito Quando vengono qui portano i loro mariti così che lei possa vedere i suoi generi nei weekend? Sì hanno la loro famiglia e ci incontriamo spesso E' già diventato nonno? Sì Le piacciono i suoi nipoti? Ma certo Mi dica è un bravo nonno? Gioca con loro in giardino? Molto di rado sfortunatamente Molto di rado E lei discute con i suoi generi avete opinioni diverse fate delle discussioni Può capitare di avere opinioni diverse ma si discute Anche con le sue figlie? Certo Ma quasi mai di politica e non si occupano neppure di grossi affari Sì Si occupano di scienza e di formazione E' fantastico E' un uomo molto fortunato con due brave figli Sì 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 Sono fiero di loro Certo Bene Andiamo E' bellissimo E' un cavallo da corsa? Sì E' bellissimo E' il mio preferito Gli diamo da mangiare? Tieni bello Sembra un puro sangue Tieni Mi cavalca tutti? Molto di rado purtroppo Dai Vieni qui Se la risarcionano si può far male Sì Una volta sono addirittura riuscito a volare sopra la sua testa Davvero? Sì E' pericoloso A me è successo cinque o sei volte Questo è piccolino Siete il paese d'Europa con più musulmani No non è del tutto vero credo che in Francia la percentuale sia la stessa In passato ha affermato che la popolazione etnica russa sta diminuendo Fortunatamente siamo riusciti ad invertire la tendenza Sì E' il terzo anno consecutivo che riportiamo a un aumento della popolazione e questo vale anche per quelle regioni abitate dai cosiddetti russi caucasici Il tema delle relazioni interetniche anche qui è sempre stato tra i più delicati in assoluto ma la Russia ha un grosso vantaggio in questo senso ad esempio se si prende l'Europa o gli Stati Uniti al giorno d'oggi troverà persone di 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 religione diversa molte di cui emigrate qui no religioni diverse ma stessa patria non ne hanno un'altra Fin dall'inizio la Russia è nata come 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 un paese multireligioso e anche fortemente multietnico per oltre un migliaio di anni abbiamo cullato una cultura votata all'interazione e nelle nostre città vivono popolazioni di religioni diverse come cristiani e musulmani che a volte si ritrovano possiamo dire fianco a fianco a festeggiare le rispettive festività religiose ora io sono fermamente convinto che sia proprio per tutte queste esperienze così positive che siamo sempre riusciti a superare quelle difficoltà che sono inevitabili nelle interazioni interetniche e interreligiosa negli ultimi due giorni ha detto spesso che la Russia è una democrazia chi la critica in America e ce ne sono molti direbbe che la Russia non è una democrazia ma che è un classico stato autoritario e che per esempio il Parlamento non ha potere e che non prende grandi decisioni i partiti di opposizione hanno un accesso limitato alla televisione e che il suo partito domina in media che la procedura per la registrazione è complicata per i partiti di opposizione che c'è una mancanza di indipendenza dei giudici anche se questo penso che sia un vecchio problema per la Russia queste sono le critiche che spesso vengono fatte contro di lei e mi piacerebbe se cogliesse l'occasione per rispondere in ordine in quanto al carattere democratico dello stato russo dobbiamo fare un passo indietro basta dare uno sguardo alla storia di un paese retto per quasi mille anni da una monarchia assoluta la rivoluzione del 1917 scoppiata con la sfida lanciata dalle forze comuniste con Stalin alla loro guida solo negli anni 90 del secolo scorso abbiamo avuto la possibilità di gettare le basi di una nuova fase dello sviluppo russo nessuno può pretendere il raggiungimento istantaneo degli standard democratici di paesi come gli Stati Uniti la Francia o la Germania una società come un organismo vivente deve poter evolvere passo dopo passo e questo è il normale processo di sviluppo lei ha poi accennato all'accesso ai media noi abbiamo centinaia di società televisive e anche radio nessuna controllata dal governo perché è impossibile ora il grosso problema delle forze di opposizione è che non si battono solo per arrivare al potere quanto il fatto che vorrebbero dimostrare a parole agli elettori che le loro politiche sono migliori e che la popolazione potrebbe beneficiarne votate per Procherova non fai di essere forti io non poterlo venendo al sistema multipartitico e alla possibilità di proporre nuove liste abbiamo recentemente libizzato in modo radicale la situazione e adesso la procedura di registrare il proprio partito è così semplice che gli elettori dovranno affrontare un'altra difficoltà vista la grande offerta che in futuro si presenterà al paese che ne pensa dei candidati alle elezioni americane sono certo che gli abitanti degli Stati Uniti sceglieranno il migliore no vorrei sapere cosa ne pensa lei da un punto di vista personale no noi siamo già pronti a lavorare con chiunque venga scelto dal popolo degli Stati Uniti l'ho già detto più volte mi creda è la verità io non credo che cambierà molto nelle relazioni bilaterali chiunque finirà per essere eletto e Bernie Sanders le piace? vede in realtà qui non è certo questione se lui mi piaccia o meno ecco tutto quello che posso dire a riguardo avendo qualche esperienza nel campo della comunicazione è che l'apparato statale degli Stati Uniti è molto potente gli stessi candidati se ne renderanno conto solo dopo che uno di loro sarà stato eletto quando arriverà alla Casa Bianca si accorgerà di quanto possa pesare un simile apparato burocratico diciamo capisco ma non ha risposto alla mia domanda su Sanders se le piace? provi a riascoltare il nastro il mio vecchio collega Barack Obama aveva promesso al mondo di chiudere Guantanamo e non è riuscito a farlo giusto eppure io sono davvero convinto che è quello che avrebbe sinceramente voluto fare non possiamo credere a tutto quello che si dice sotto elezioni la realtà delle cose è quella che inizierà ad apparire dopo l'insediamento ad ogni modo la speranza è che il nuovo presidente voglia davvero cambiare il paradigma dei rapporti bilaterali tra Russia e Stati Uniti ma capisce quanto sarebbe potente la sua risposta se dicesse che preferisce un determinato candidato lui domani colerebbe a picco e se invece dicesse che non le piace Trump o qualcun altro che succederebbe? vincerebbe giusto? lei ha questo potere negli Stati Uniti ma a differenza di alcuni uomini politici noi non interferiamo mai nelle questioni interne di altri paesi questo è uno dei principi della nostra azione grazie signor presidente ci vediamo domani parliamo di cose più pesanti a domani grazie 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 a lui a domani buonanotte eccomi buongiorno buongiorno signor presidente come sta? bene come sta? ehm oggi sono un po' stanco come mai? non ho dormito bene io ho giocato a hockey e lei è stanco sì ma a lei fanno male i muscoli ho fatto una bella passeggiata ho fatto una bella passeggiata nel parco con mia moglie e pensavo a soci nel quarto secolo avanti Cristo chissà com'era qui sì ecco è qui che Giazzone sarebbe venuto alla ricerca del del vello d'oro come dice la leggenda quella lì è una delle sue case? sì è bella? quella è casa mia c'è molta pace vuole fare l'intervista qui a me va bene comunque vuole iniziare? come crede qualunque cosa d'accordo o vuole entrare? va bene allora andiamo staremo più com'eri volevo parlare ancora della crisi in Ucraina abbiamo già parlato dei terroristi durante la mia prima visita volevo riparlarne solo per essere ancora più chiari perché sarà una parte molto importante per i nostri spettatori sì è chiaro ma se non le dispiace io vorrei vorrei partire dall'inizio della crisi d'accordo? dopo l'indipendenza dell'Ucraina è iniziata una selvaggia privatizzazione delle proprietà dello Stato io la definirei piuttosto una vera e propria ruberia di massa e la qualità della vita è crollata mentre i governi cambiavano in continuazione nulla cambiava per i cittadini comuni ovviamente il popolo era stanco di azioni arbitrarie e della corruzione ad ogni livello così come del loro impoverimento a fronte dell'arricchimento di pochi altri a quel punto è evidente che gli ucraini iniziassero a guardare con favore verso l'Unione Europea contando che un'adesione avrebbe potuto risollevarli dalle terribili condizioni in cui erano precipitati negli anni 90 è questo il retroterra degli sviluppi a cui abbiamo assistito poi in Ucraina le economie dei nostri due paesi stavano finalmente iniziando ad affermarsi congiuntamente è come un blocco unico dalle grandi prospettive il mercato interno della Russia era assolutamente aperto alle importazioni ucraine e all'epoca non esisteva alcuna barriera tariffaria per 17 anni abbiamo discusso con l'Europa dell'adesione della Russia all'organizzazione mondiale del commercio e quasi da un giorno veniamo poi a scoprire che Ucraina e Unione Europea avrebbero presto firmato un trattato di libero scambio e il mercato ucraino si sarebbe così aperto e l'Unione Europea avrebbe potuto invadere con i suoi beni anche il nostro territorio senza alcuna trattativa nonostante come le ripeto ci fossero stati dei negoziati serrati sulla nostra adesione alla OMC che erano proseguiti per ben 17 anni ora noi dovevamo rispondere abbiamo convenuto che l'Ucraina aveva tutto il diritto a fare determinate scelte che rispettavamo in pieno ma non stava certo a noi pagare il conto perché mai gli abitanti della Russia avrebbero dovuto pagare per una scelta fatta in piena autonomia dalla classe dirigente ucraina a quel punto abbiamo ufficialmente proposto all'Unione Europea una trattativa a tre avendo un rifiuto netto ci dissero che dovevamo starne fuori ora come lei sa la crisi è scoppiata quando il presidente Yanukovic fu costretto sicuramente non per sua volontà ad annunciare il rinvio della firma finale dell'accordo con l'Unione Europea cercò di assicurare il paese garantendo di persona che la firma ci sarebbe stata non appena chiariti alcuni dettagli tecnici i rappresentanti dell'Unione Europea e dell'Ucraina hanno detto che la sospensione delle trattative per un rapporto più stretto potrebbe continuare dopo questo incontro ma per adesso l'offerta non è più valida ecco è iniziato tutto da lì poi i nostri partner europei e americani decisero di cavalcare l'onda del malcontento e invece di indagare sulle origini di quel fallimento appoggiarono il colpo di Stato dal novembre 2013 fino al 20 febbraio del 2014 ci sono state molte proteste ricordo vividamente che in televisione dicevano che era come un colpo di Stato a rallentatore ed era evidente che fosse rivolto alla Russia non facevamo molto caso all'Ucraina per noi riguardava la Russia da suo punto di vista probabilmente ma la CIA stava già dedicando molte attenzioni all'Ucraina e lei dovrebbe ricostruire gli sviluppi della situazione dopo l'annuncio del tutto inaspettato con il quale Yanukovic annunciava il rinvio della firma del trattato con l'Unione Europea nessuno nessuno gliene chiese le ragioni né quali fossero i termini e subito dopo scoppiarono i disordini per settimane questa capitale europea è stata la scena di una violenta rivolta oggi è stato il giorno più sanguinoso i manifestanti stanno spingendo verso la zona governativa armati di Molotov ma vediamo anche pistole e fucili non c'è assolutamente nessun dubbio qui le cose non vanno ho contato dieci morti ci sono perdite da entrambi i lati ha appena detto che lì ci sono sei persone morte non sono feriti sono morti uccisi dai cecchini 14 poliziotti morti e 43 feriti durante il massacro di Maidan lei riceveva delle informazioni riguardo a quello che succedeva è stato un massacro stranissimo per via del numero di vittime tra poliziotti e civili e i poliziotti non rispondevano al fuoco si ritiravano e venivano invitati a indietreggiare da Yanukovic durante quei momenti sembrava che ci fossero dei cecchini che miravano sia la polizia sia i civili per creare il caos necessario per il colpo di stato questa sua interpretazione è quella corretta Yanukovic non ha mai dato l'ordine di sparare sui civili i nostri partner occidentali inclusi gli Stati Uniti ci chiedevano di attivarci per convincerlo a non ordinare di sparare ci dicevano di impedire a Yanukovic di usare l'esercito e che avrebbero fatto qualunque cosa per costringere l'opposizione ad abbandonare le strade e i ministeri occupati da parte nostra assicuriamo tutto l'appoggio possibile effettivamente non venne utilizzato l'esercito in seguito Yanukovic dichiarò che non c'era altra via per uscire dall'impasse e che non avrebbe mai firmato un ordine di intervento dell'esercito chi erano questi cecchini? chi può avere utilizzato dei cecchini una o più parti che avessero interesse a far precipitare ulteriormente la situazione interna non ho informazioni precise a riguardo ma basta un minimo di logica per arrivarci ha ricevuto ha ricevuto qualche rapporto riguardo all'addestramento di alcuni battaglioni in altre città e in alcuni settori appartenenti all'estrema destra mi è stato detto che un'unità di cento uomini è arrivata in città alcuni giorni prima del massacro secondo le nostre informazioni alcuni piccoli gruppi armati erano stati addestrati nella parte occidentale dell'Ucraina in Polonia e in alcune altre zone vorrei solo ricordarle che poco prima se non ricordo male doveva essere il 21 febbraio erano arrivati in visita a Kiev tre ministri europei che avevano poi partecipato ad un incontro tra il presidente Yanukovic e le forze di opposizione raggiungendo un accordo informale secondo il quale si sarebbero tenute elezioni anticipate stabilendo anche quali sarebbero stati i rapporti tra il presidente e l'opposizione la stampa americana ha fatto sembrare come se Yanukovic avesse abbandonato Kiev sì, quella è stata la versione utilizzata per giustificare l'appoggio offerto al colpo di stato appena Yanukovic parte per Kharkov la seconda maggiore città del paese per una manifestazione politica uomini armati occupano la residenza del presidente ora immagini qualcosa del genere negli Stati Uniti con l'occupazione della Casa Bianca lei come lo definirebbe? un colpo di stato o solo alcuni volontari che vogliono fare pulizia? il procuratore generale viene ferito e così uno degli agenti delle forze di sicurezza mentre qualcuno spara anche contro il convoglio d'auto di Yanukovic a questo punto è evidente che non può trattarsi altro che di un colpo di stato non solo appena il giorno dopo grazie grazie al nostro appoggio riesce a riparare in Crimea che faceva ancora parte dell'Ucraina e dove il presidente Yanukovic mi sembra che si sia fermato per oltre una settimana la sua speranza era che quelli che pochi giorni prima avevano firmato un accordo con le forze di opposizione riuscissero a risolvere la situazione che si era venuta a creare naturalmente con i metodi in uso in una democrazia ma ben presto divenne evidente come fosse effettivamente solo una speranza e che sarebbe stato ucciso se catturato vede tutto può essere interpretato e distorto in modo da convincere milioni di persone se si è in grado di utilizzare i media in regime di monopolio ovviamente anche se in fin dei conti io credo che per uno per uno spettatore imparziale sia chiaro quello che è successo cioè è un colpo di stato il parlamento ucraino ha votato per nominare i presidenti ad interim il portavoce dell'assemblea olexander turcinov è chiamato dai legislatori a formare un governo ad interim entro martedì questi sono gli eventi che sono scaturiti dalle dimissioni del presidente Yanukovic questo sabato a molti piacque il colpo di stato ma non alla maggioranza che era preoccupata di questa ondata di nazionalismo e radicalismo poi come primo atto del nuovo governo ci fu la discussione circa una legge per la limitazione dell'uso della lingua russa che l'unione europea poi bloccherà ma il segnale è già stato lanciato e la direzione assunta molto chiara qualcosa di simile successe nel sud est dell'Ucraina sto parlando del territorio chiamato Donbass le sue città principali Lugansk e Donetsk prendono posizione contro il colpo di stato prima si tenta di bloccare le forze di opposizione al governo ma la polizia si schiera al fianco dei dimostranti e a quel punto entrano in scena le forze speciali che iniziano ad operare dei fermi di massa e arresti di dimostranti in una tragica escalation il popolo del Donbass prende le armi iniziano le osterità e si comincia a sparare nelle strade quindi invece di cercare di instaurare un dialogo con questi oppositori vengono inviate le truppe speciali oltre all'esercito e all'aviazione e vengono usati lanciarazzi multipli contro zone residenziali poi sale al potere un nuovo presidente a cui ci siamo ripetutamente appellati chiedendo che si astenesse dall'uso della forza l'ho sentito più volte anche personalmente ma lui aveva una sua opinione su quanto stava accadendo e continuava a parlare dei due o tre soldati che aveva perso durante gli scontri ora è sempre una tragedia quando muore un essere umano ma quando riprese le ostilità furono i migliaia a morire le vorrei chiedere del presidente Obama durante questo periodo che tipo di comunicazioni ha avuto con lui noi due eravamo costantemente in contatto ci sentivamo molto spesso specialmente al telefono ovviamente non eravate d'accordo avevamo e abbiamo vedute diverse sulla genesi della della crisi politica ucraina e e che è ancora in atto parla ancora con lui? certo l'ho sentito giusto qualche giorno fa abbiamo parlato di problemi bilaterali e della situazione in Medio Oriente e dell'Ucraina come definirebbe il vostro rapporto cordiale? no direi molto molto formale si vedono quando parlano? no no ma posso assicurarle che che si tratta di un dialogo molto utile ad entrambe le parti niente di conflittuale quantomeno è è quello che penso il presidente Obama è una persona riflessiva che cerca di arrivare al cuore di una situazione ora è ovvio che ci sono questioni su cui non siamo d'accordo ma c'è una notevole identità di vedute su temi anche complessi e questo è un bene si tratta di di un dialogo fruttuoso va bene questa sarà una domanda un po' casuale ma sono sempre stato curioso tra di loro si chiamano Vladimir e Barack o si chiamano Barack e Vladimir con il nome ottimo possiamo parlare delle influenze esterne in questa crisi in Ucraina sappiamo che delle ONG agivano in Ucraina sappiamo che Victoria Nuland l'assistente segretario di stato per l'Europa dell'Est era molto attiva e sosteneva il cambio di governo sappiamo che il senatore John McCain è venuto in visita ed è stato visto in alcune proteste insieme ai leader di estrema destra e a dei neonazisti sappiamo che l'America e la National Endowment for Democracy che è un'organizzazione no profit privata molto influente erano molto attive erano molto attive qui Carl Gershman il presidente dell'organizzazione ha fatto un discorso molto forte per un'Ucraina indipendente e sappiamo anche che George Soros un investitore miliardario ungherese era molto coinvolto nel sostegno a determinati gruppi in Ucraina sì è vero vede io non comprendo la logica seguita dai nostri partner ho l'impressione che abbiano la necessità di rafforzare il controllo della sfera euro-atlantica da qui la necessità di un nemico esterno in altre parole gli Stati Uniti e la Nato possono tenere unita un'Europa pro-America solo con un nemico esterno come la Russia posso tranquillamente dirle che è vero sì io ne sono certo posso assicurarglielo I know that I feel that the final assault came amidst fire and ice snipers on rooftops the heavenly hundred paid the ultimate price of patriots the world over their blood and courage delivering to the Ukrainian people a second chance for freedom their sacrifice to put it bluntly is now your obligation col senno di poi riguardando al passato ha fatto un errore ad annettere la Crimea perché le è costato molto le sanzioni tutta la storia dell'Europa e l'America che si rivoltano contro la Russia sono delle notizie pesanti perché è illegale secondo i trattati stipulati dopo la guerra era un'azione illegale non abbiamo annesso la Crimea sono stati i suoi cittadini a decidere di unirsi alla Russia il legittimo Parlamento della Crimea che era stato eletto sulla base della Costituzione ucraina ha indetto un referendum e il Parlamento con una massiccia maggioranza ha votato a favore dell'unione con la Russia il colpo di Stato in Ucraina è stato accompagnato da una terribile ondata di violenza e c'era il pericolo fondato che i nazionalisti si scatenassero anche contro la Crimea contro coloro che si consideravano russi che vedevano il russo come la loro madrelingua e che volevano che rimanesse tale la gente iniziò a preoccuparsi temendo per la propria sicurezza Secondo un accordo internazionale noi avevamo il diritto di mettere in salvo 20.000 civili all'interno della nostra base militare in Crimea facilitando al tempo stesso il lavoro del Parlamento di Crimea e di tutti i suoi corpi rappresentativi permettendo loro di riunirsi e di agire sulle basi delle leggi vigenti il popolo ha il diritto di sentirsi al sicuro questo ci fa chiedere se il voto sia stato legittimo e libero vista anche la massiccia presenza militare in Crimea in questo momento sì abbiamo abbiamo creato delle condizioni per permettere un voto regolare ma senza scatenare delle ostilità non ci sono stati morti né feriti oltre il 90% della popolazione della Crimea si è recato ai seggi ha votato e una volta pubblicati i risultati il Parlamento in base all'esito del voto popolare ha chiesto al Parlamento russo l'annessione alla Federazione Russa più del 90% ha votato per diventare parte della Russia gli organi ufficiali dicono che questo è un risultato senza precedenti l'Ucraina ha perso la Crimea non certo per un'azione di forza della Russia ma per una libera scelta della popolazione della Crimea popolazione che non ha voluto vivere sotto il nazionalismo poi è iniziata la guerra civile nel Donbass dopodiché il PIL del paese è crollato ai minimi storici con conseguente peggioramento della qualità della vita le grandi industrie hanno iniziato a chiudere in massa la disoccupazione è esplosa il potere d'acquisto è conseguentemente crollato e l'inflazione è arrivata mi sembra al 45% o al 47% noi abbiamo molti legami con l'Ucraina non siamo solo vicini al popolo ucraino ma posso dire che siamo praticamente un unico popolo la sua lingua la sua cultura e ovviamente la sua storia devono essere rispettate e anche quando appartenevamo allo stesso paese abbiamo sempre rispettato le loro differenze basti dire che in molti casi i leader dell'unione sovietica sono stati d'origine ucraina e credo che questo dica dica molto ma economicamente voi siete autosufficienti se ne sono andati lasciate a loro i loro problemi diciamo sicuramente non distruggerà la vostra nazione no affatto e a un certo punto durante il nostro ultimo incontro io le ho chiesto della base per sottomarini in Crimea a Sebastopoli lei ha detto che non si sentiva minacciato dalla perdita della base sì abbiamo rischiato di perderla anche se in realtà è stato solo un rischio a livello potenziale ad ogni modo sappia che al momento stiamo costruendo una nuova base navale non lontano da Sebastopoli a Nawazysk anche se la Nato e l'Ucraina facessero un accordo non credo che rappresenterebbero una minaccia per la Russia anche se avessero delle nuove armi io la vedo il fatto è che una volta che la Nato inizia ad insediarsi in questo o quel paese né la leadership politica di questo o quel paese né tantomeno la popolazione potrà influenzarne le decisioni e tra queste la possibilità di di rifiutare il posizionamento di nuovi sistemi d'arma anche del nuovo sistema antimissili e questo significa che noi dovremmo rispondere ecco al momento stiamo assistendo ad un certo rafforzamento dell'influenza americana in Europa in parte dovuto ai paesi dell'Europa orientale quasi come avessero bisogno di riaffermare un loro affrancamento dal dominio di quella che una volta era la vecchia la vecchia unione sovietica e che temono di vedere riproposto dalla Russia ma questo non può durare attraverso il precipitare della crisi in Ucraina si sta cercando di allargare questo sentimento verso la Russia raffigurandola come un nuovo nemico e come potenziale aggressore però presto o tardi tutti dovranno capire che noi non rappresentiamo una minaccia non più né per i paesi baltici né per l'Europa dell'est né tantomeno per i paesi dell'Europa occidentale ora più radicato resterà questo questo malinteso e maggiori saranno gli sforzi per mantenere la loro sovranità e proteggere i propri interessi nazionali ecco è proprio questa come dire questa sensazione di sentirsi sempre sotto pressione che posso assicurarle non fa piacere neanche a noi prima o poi per questo assurdo stato di cose si dovrà dire la parola fine ed ovviamente è molto meglio che questo avvenga attraverso un dialogo costruttivo ora qualcuno potrà anche utilizzare l'esempio della 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 Corea del Nord per dipingere un quadro ancora più fosco degli schieramenti ma secondo me questo è un periodo di transizione verso un nuovo paradigma nei rapporti internazionali verso una nuova filosofia nei rapporti tra paesi e questo paradigma dovrà essere improntato alla salvaguardia degli interessi reciproci e della sovranità nazionale e non certo ad un clima di intimidazione tale da richiedere protezione da parte degli Stati Uniti il clima attuale non può durare in eterno ha una bella casa qui può farmi fare un giro? con piacere come fanno con il riscaldamento? beh dovrebbe non fa niente dovrebbe chiedermi qualcosa di più semplice ma diciamo che ci riescono ma di sicuro non usano la legna si sente solo la notte quando cammina per i corridoi? di notte non vengo mai qui mi dispiace so che lei qui ha un ufficio e so anche che è nascosto ci sono stato una volta si se vuole posso volentieri mostrarle il mio studio era il vecchio studio di Stalin si questo era anche il suo studio quando era capo del vero è il decimo anniversario del discorso di Monaco sta benissimo sembra quasi un attore come mai è acceso? è l'anniversario ah giusto era febbraio il giorno in cui si è messo nei guai diciamo piuttosto che ho preferito essere sincero lo so ecco il mio studio è qui che lavoro di solito ora è più piccolo rispetto a prima una volta non c'era quella parete qui è dove lavora adesso e fa anche le riunioni? si a quel tavolo adesso le mostrerò l'altra parte di questo studio va bene le chiedo scusa per il disordine lui è mio padre a Sebastopoli in Crimea all'epoca era imbarcato su su una nave da guerra a Sebastopoli? si esatto per questo ci teneva tanto e questa è la seconda parte dello studio ci sono due scrivanie come le usa? qui è dove lavoriamo sui documenti e di solito è ricoperta di carte questo è il mio il mio si si bene è il libro di storia che ho scritto qui c'è un altro studio della mia segreteria vuole vederlo? si certo sono molto curioso wow si qui ci sono stato ci siamo incontrati qui la prima sera era il primo incontro dimitri ricordi eravamo lì tre uffici diversi si l'ultima volta che abbiamo parlato della sorveglianza di massa ho avuto l'impressione che lei non fosse favorevole e che non approvasse le tecniche americane e come abbiamo mostrato nel nostro film su Snowden perché funzioni meglio contro i terroristi bisogna avere un bersaglio preciso poi io me ne sono andato e quando sono tornato ho sentito che è stata emanata una nuova legge che viene soprannominata legge del grande fratello e riguarda le tecniche di sorveglianza di massa sono sorpreso anche Snowden qui in Russia non le approvava lei ha menzionato il signor Snowden che ha rivelato al mondo come la NSA e la CIA tenessero sotto controllo privati cittadini di tutto il mondo oltre che politici di paesi che almeno nominalmente erano loro alleati ora noi abbiamo studiato una legge secondo la quale certi dati e tutte le le informazioni raccolte dovranno essere conservate dalle società che che forniscono servizi internet e di telefonia ma vede le informazioni riservate quelle davvero importanti potranno essere raccolte solo solo dai servizi segreti e dietro dietro specifico permesso del giudice ora leggi simili sono in vigore negli Stati Uniti in Canada in Australia e in molti altri paesi leggi che io ormai trovo necessarie in funzione antiterrorismo perché se certe informazioni venissero semplicemente cancellate allora svanirebbero anche le speranze di perseguire chi infrange la legge terroristi compresi ma perché lo state facendo sembra che vogliate rivolgerle contro i cittadini russi al momento purtroppo c'è il Daesh che sta operando in Siria insieme a diverse altre organizzazioni terroristiche ma anche molto pericolose noi abbiamo 4.500 uomini che le contrastano oltre certo oltre ad altri 5.000 nei paesi dell'Asia centrale che facevano parte una volta dell'Unione Sovietica e poi anche noi abbiamo subito dei gravi attentati soltanto lo scorso anno i servizi segreti sono riusciti a sventare oltre 45 attacchi terroristici questo è uno dei nostri centri operativi dal quale il mio staff ed io possiamo ottenere videoconferenze con le diverse città della Russia e con le diverse agenzie e ministeri governativi il tutto in tempo reale sembra la situation room americana da qui ordina i vostri attacchi quelle situazioni si giustiscono altrove ma se parla delle mie funzioni di comandante in capo delle forze armate queste le svolgo da qui in contatto col ministero della difesa perché è fornita di tutti i necessari mezzi di comunicazione con le basi che cosa è successo? ora chiamerò il ministero per la gestione delle emergenze buon pomeriggio puoi sentirci? ci sono situazioni da segnalare? alle 12 abbiamo avuto un'emergenza nel distretto di Tula poi risolta ora stiamo monitorando le principali arterie federali e locali abbiamo inoltre stabilito circa 50 posti di blocco mentre non ci sono ingorghi degni di nota nei distretti federali degli Urali e nel territorio di Krasnoyarsk le temperature sono da 7 a 10 gradi inferiori alla media del periodo fine del rapporto grazie è tutto il ministero della difesa buonasera mi sente bene? si comandante in capo qui è il generale Kristoforov che parla siete in contatto con i vostri colleghi di distanza in Siria? si siamo in contatto costante con le nostre truppe in Siria teniamo sotto controllo la situazione in tempo reale e siamo pronti per eventuali urgenze e necessità comandante in capo chi c'è al comando delle forze aeree in Siria? il comandante delle forze aeree in Siria è il generale Kartapolov vorrei ricevere da lui un rapporto dettagliato sulla situazione sul campo quelli di dietro sono veri aerei? si tutte le informazioni vengono raccolte in tempo reale anche l'accesso ai sottomarini? ma certo sappiamo tutto quello che succede sempre in tempo reale istante per istante comandante in capo abbiamo il rapporto da parte del generale Kartapolov il comandante delle nostre forze aeree in Siria al momento la situazione sul campo è relativamente stabile il generale comunica inoltre che sono in corso preparativi con la controparte turca per delle azioni aeree nel distretto di Deresor e nel distretto di Elbab gli obiettivi sono delle strutture identificate come basi appoggio dell'ISIS mentre stiamo già pianificando ulteriori azioni sempre nei medesimi distretti coordinate con le forze di terra perghe i miei saluti al generale e gli comunichi pure che attendo i suoi continui aggiornamenti grazie Allora parlando di budget in termini militari lei ha detto che quello americano è di 600 miliardi mentre il vostro budget annuale è di 66 questo secondo le statistiche russe 66 è quasi un decimo o il 12% di quello che spende l'America i cinesi spendono annualmente 215 miliardi l'Arabia Saudita ne spende 87 il che mette la Russia al quarto posto con 66 queste cifre sono esatte? Sì all'incirca Wow quindi l'Arabia spende più soldi di voi? Sì lo sappiamo bene come ci riuscite? Insomma avete un esercito davvero notevole e anche un solido servizio di intelligence a livello economico qual è il trucco? Come fate? non avete strutture che costano molto? È tutto pulito? Non c'è corruzione in Russia? No c'è come in tutti gli altri paesi ma sappiamo bene come la cosa più importante sia avere un'economia efficiente basata su fondamentali molto solidi e anche le forze armate devono essere moderne e molto efficienti io ritengo che la nostra spesa per la difesa nazionale sia sufficiente parliamo di oltre il 3% del PIL e per la Russia è abbastanza pensi che quest'anno siamo riusciti a migliorare il bilancio contraendo ulteriormente la spesa per la difesa e la nostra intenzione è di portarla a 2,7 o al 2,8% del PIL nei prossimi tre anni gli Stati Uniti hanno avuto un grande sviluppo tecnologico e parlano sempre del loro sistema missilistico c'è motivo di credere che abbiano raggiunto qualche tipo di superiorità in campo tecnologico per ora no ma è possibile e sicuramente dobbiamo tenerlo presente ma devono avere un piano stanno facendo qualcosa sento che stanno lavorando su qualcosa e forse hanno un vantaggio è possibile che i vostri missili possano essere distrutti da un attacco americano e che noi siamo in grado di resistere a ogni tipo di vostro attacco e che ci potrebbe essere un secondo attacco che distruggerebbe le vostre città la vostra popolazione e tutto il resto quello che stanno facendo è costruire un ombrello per proteggersi ma la conseguenza di questo comportamento non è altro che una nuova corsa alle armi e tutto questo non fa altro che creare nuovi sospetti per quanto riguarda la Siria può descrivere quale fosse il suo obiettivo ci può dire qualcosa adesso a che punto siete osservando quanto è successo in alcuni paesi della regione in particolare all'Iraq e alla Libia è impossibile negare che in questi due paesi abbia avuto luogo una vera tragedia e questo perché quei regimi sono stati estromessi con la forza e quando parlo di estromissione intendo dire eliminazione fisica ora noi non volevamo che la stessa cosa potesse avvenire in Siria o l'intera regione sarebbe piombata nel caos allo stesso tempo se la Siria avesse seguito la stessa sorte della Libia la posizione delle organizzazioni più radicali e terroristiche si sarebbe certamente rafforzata già adesso loro sono molto forti perché controllano diverse aree petrolifere della regione loro chi? i terroristi? sì i terroristi certo tra l'altro continuano a vendere clandestinamente reperti archeologici per finanziarsi e ricevono aiuti anche da paesi stranieri che ne hanno permesso l'affermazione e noi dobbiamo evitare che diventino ancora più forti perché il loro sogno è un califato che vada dall'Europa meridionale fino all'Asia centrale questa è la cosa più preoccupante sì ma noi abbiamo degli obiettivi molto concreti in quella zona combattono migliaia di miliziani provenienti dall'ex repubblica sovietica e dalla Russia che potrebbero tentare di tornare qui da noi e noi dobbiamo evitarlo tutti questi motivi ci hanno spinto a prendere le misure che conoscete allo stesso tempo siamo perfettamente consapevoli che l'attuale leadership della Siria ha commesso diversi errori al proprio interno ecco perché prima del nostro intervento avevamo instaurato un dialogo con il presidente Assad che aveva compreso la gravità dei problemi del paese ed era pronto a dialogare con le forze di opposizione persino con i gruppi armati in vista dell'elaborazione di una nuova costituzione consideri infine che era anche pronto ad anticipare le elezioni presidenziali elezioni che avrebbero dovuto tenersi sotto una supervisione internazionale e la strada che l'ISIS stava usando per portare i camion della benzina in Turchia una di queste strade individuata dalla ricognizione aerea attraversava un territorio abitato dai cosiddetti turkmeni ed era sicuramente il modo migliore per esportare petrolio di contrabbando in Turchia sì perché era la più breve e anche perché garantiva l'accesso ad un porto turco sul mar Mediterraneo e voi avete portato questa informazione a Erdogan giusto? no non gli ho detto niente stavate colpendo zone turkmene e non gli avete detto il perché? alle pezze che avrei dovuto farlo perché? non parliamo del suo paese voglio dire noi stavamo combattendo con il governo legittimo della Siria per contrastare i gruppi radicali avrebbe potuto dirglielo in modo diplomatico signor Presidente sappiamo per certo che la benzina sta arrivando in determinati posti in Turchia e crediamo che ci siano dei contrabbandieri in Turchia che collaborano con l'ISIS e che fanno entrare la benzina e la situazione ci preoccupa molto ho ragione è davvero è davvero piacevole parlare con lei ascolti durante il G20 quando eravamo tutti seduti intorno al tavolo senza i giornalisti io ho preso delle fotografie di queste dimensioni e dalla poltrona in cui ero seduto le ho mostrate in giro le avevamo già fatte avere alla controparte americana e gli Stati Uniti sono a capo della coalizione anti-ISIS tutti sapevano già tutto e da noi si dice che è inutile sfondare una porta che è già aperta qui non stiamo parlando di una sola autobotte ma di migliaia di mezzi che percorrevano ogni giorno giorno e notte quella strada sembrava una specie di oleodutto vivente chi era il delegato degli Stati Uniti? ecco lei ora mi sta chiedendo una cosa che che non credo debba essere resa pubblica quindi ogni giorno due volte al giorno voi fornite tutte le informazioni riguardo alle vostre missioni in Siria alla Nato non alla Nato ma ai vertici militari americani davvero direttamente a loro e loro le danno a noi e voi ricevete tutte le loro informazioni sì questo in modo da sapere sempre dove stanno agendo le nostre forze per prevenire che accadano incidenti spiacevoli per evitare incidenti nello spazio aereo sì è una situazione pericolosa sì il fatto è che in quello spazio aereo agiscono contemporaneamente velivoli militari appartenenti a diversi paesi e questo può avere delle conseguenze molto spiacevoli a proposito noi stiamo agendo su invito del legittimo governo siriano quindi legittimamente lo so è in perfetto accordo con quanto prescritto dalla carta delle Nazioni Unite ci tengo a ricordare che forze aeree straniere possono volare nei cieli di un paese terzo solo dopo una risoluzione del consiglio di sicurezza o se invitate dal governo legittimo quindi legalmente ma nonostante questo abbiamo ancora un obiettivo comune quello di combattere il terrorismo internazionale di base in Siria e noi siamo sempre pronti a collaborare allora ci sono aerei francesi ci sono caccia inglesi cacciaturchi e poi ci sono in realtà ci sono in azione aerei appartenenti anche a a diversi altri paesi tra cui l'Australia australiani sì certo e anche al Canada credo davvero? e ci sono aerei dell'aviazione iraniana? no nessun aereo iraniano è uno spazio aereo molto trafficato direi non più di tanto vede in questa fase i piloti compiono da 70 a 120 attacchi al giorno mentre la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti dai 2 ai 5 al giorno voi effettuate dai 70 ai 120 attacchi al giorno sì sette giorni a settimana ogni giorno ci devono essere dei passi in avanti allora non stiamo vivendo un altro Vietnam giusto? facciamo progressi lei vede del progresso sì evidente sappiamo che ci sono ancora basti territori sotto il controllo dell'ISIS ma ne abbiamo già liberato una gran parte e non parliamo solo di aree desertiche ma di parti considerate vitali del paese comunque non si tratta solo di questo il fatto è che in Siria vivono molti gruppi tribali tra i quali alcuni dei sunnita che ci hanno assicurato di voler contribuire alla lotta contro l'ISIS abbiamo stabilito dei contatti con loro e ne abbiamo informato sia il presidente Assad che i vertici militari siriani che hanno subito assicurato loro il massimo poggio logistico e militare per coordinare la loro attività sul campo in funzione anti-ISIS e antifronte al Nusra grazie quindi all'appoggio dell'esercito regolare siriano e con il nostro sostegno aereo adesso questi gruppi sono al nostro fianco se colpite dalle 70 alle 120 volte al giorno in due mesi che sarebbero 60 giorni in tutto fanno dai 4.000 ai 7.000 attacchi insomma quanto è grande l'ISIS? quanto è potente? si calcola che il numero di terroristi affiliati all'ISIS possa anche raggiungere un totale di 80.000 unità 30.000 dei quali sono mercenari stranieri provenienti da 80 paesi del mondo tra i quali anche la Russia ecco come opera la nostra aviazione chi c'è a terra? questi sono militanti in fuga con le armi e non parliamo soltanto di mitragliatrici ma anche di armi pesanti in grado di in grado di fermare blindati ora il pilota farà un altro attacco non hanno i lanciamissili? no ma è comunque una situazione molto rischiosa ecco hanno combattuto contro di voi anche in Afghanistan ma chissà dove hanno combattuto qui parliamo di terroristi internazionali sì sono stati colti di sorpresa sì stanno tentando di entrare in sedia credo che sarebbe un'ottima campagna contro l'arruolamento dell'ISIS se vedessero quelle immagini non vorrebbero mai entrarci non siamo interessati a gettare ulteriore benzina sul fuoco al contrario noi stiamo cercando di facilitare il dialogo in modo da salvaguardare l'integrità territoriale non è facile come non è facile trovare il consenso ecco ci sono dei contatti diretti con l'Iran e la Turchia che ci auguriamo tutti possano presto avere successo ma ci serve anche l'appoggio degli Stati Uniti dell'Arabia Saudita della Giordania e dell'Egitto ora noi procederemo molto cautamente in modo da da consolidare ogni passo che riusciremo a fare in avanti invece di tornare indietro senta parliamo di un'altra situazione di guerra in Crimea quando doveva tenersi il referendum il Donald Cook un cacciatolpedinieri americano a quanto pare stava entrando nel Mar Nero ma ha fatto inversioni a U e non ha portato a termine la sua missione sembra una situazione simile a quella della crisi missilistica a Cuba quando una nave si stava avvicinando alla linea di demarcazione e ha fatto marcia indietro una volta che la Crimea è diventata parte integrante della federazione è cambiato ovviamente il nostro atteggiamento nei suoi confronti a questo punto ne consegue che se percepiamo una minaccia verso un nostro territorio e la Crimea adesso fa parte della Russia come farebbe qualunque altro paese noi ci difendiamo con tutti i mezzi a nostra disposizione la tensione sale tra gli Stati Uniti e la Russia dopo che un jet russo è volato vicino a una nave da guerra americana nel Mar Nero ci colleghiamo con la nostra corrispondente a Washington Marta questa manovra dei russi ha fatto rinascere qualche ricordo della guerra fredda direi proprio di sì George questo jet russo è sfrecciato accanto a un caccia torpediniere americano nel Mar Nero non una ma 12 volte nell'arco di soli 90 minuti la Nato ha annunciato che terrà delle manovre nel Mar Nero e mentre un incrociatore russo è apparso a largo delle coste della Romania e un gruppo navale con due portaerei sta incrociando nel Mediterraneo la USS Donald Cook dotata di missili cruise si sta avvicinando alla Crimea io non azzarderei un'analogia con la crisi di Cuba perché allora giungemmo davvero solo a un passo dall'apocalisse in questo caso fortunatamente non siamo arrivati a tanto anche se abbiamo messo in campo tutti i sistemi di difesa navale più sofisticati del nostro arsenale mi pare che si chiamasse Bastion Bastion ma è un missile bello grande e il cacciatropediniere il Donald Cook aveva solo dei missili Tomahawk si infatti e quelli che abbiamo in Crimea servono a contrastarli per cui la Donald Cook sarebbe stata senza difesa forse è per questo che è tornata indietro il vostro comandante aveva l'autorità di far fuoco i nostri comandanti hanno sempre l'autorizzazione ad usare tutti i mezzi a disposizione per difendere l'integrità della federazione russa sarebbe potuto capitare un incidente gravissimo sì è di quelli molto gravi perché quell'incrociatore si era avvicinato tanto alle nostre coste noi abbiamo tutto il diritto di proteggere il nostro territorio quanto tempo ci avete messo a rispondere più o meno è successo tutto in tempo reale una volta localizzato l'incrociatore è stato identificato come una minaccia potenziale e la sua posizione è stata subito comunicata ai nostri sistemi missilistici basati a terra certo non so chi fosse il comandante dell'incrociatore io so solo che che ha dimostrato un notevole buonsenso e anche coraggio perché non è mai facile decidere di fare marcia indietro comunque è stata la decisione giusta quella di non andare oltre avrebbe solo rischiato di far precipitare la situazione ad ogni modo questo non vuol dire che avremmo attaccato l'incrociatore ma abbiamo dimostrato che eravamo pronti a difendere le nostre coste certo c'è stato un qualche tipo di avvertimento il comandante ha capito che la sua nave era stata inquadrata dai nostri sistemi d'arma ci sono delle apparecchiature che lo segnalano tutto questo avviene in due minuti in mezz'ora cinquanta minuti non lo so con esattezza ma possono bastare pochi secondi mi dica queste cose succedono spesso perché lei mi sembra molto calmo ma come ci riesce sì a volte succede no in realtà siamo stati costretti a mettere il dito sul grilletto per così dire l'hanno messa sotto pressione sì certo noi dovevamo in ogni caso essere pronti a rispondere finalmente lo sta ammettendo sì ma in ogni caso noi eravamo e restiamo ancora aperti a un dialogo costruttivo e abbiamo davvero fatto di tutto per raggiungere un accordo politico che potesse smussare gli angoli con la nostra controparte sì ma Washington ha preferito appoggiare un inaccettabile atto di forza e a tutt'oggi io me ne sto ancora chiedendo la ragione a quel tempo lei disse questo è un territorio storico per noi queste persone sono russe e adesso sono in pericolo non possiamo lasciarli soli non siamo stati noi a fare il colpo di stato sono stati i nazionalisti e delle persone di estrema destra voi li avete sostenuti ma dove vivete? a 8000 km di distanza noi viviamo qui e questa è la nostra terra perché volete combattere qui? non lo sapete, è vero? ma noi lo sappiamo e siamo pronti c'è qualche speranza? c'è sempre speranza vede io sono convinto che in futuro arriveremo a prendere decisioni che oggi non possiamo neanche lontanamente immaginare sono certo che ci saranno nuovi problemi che noi dovremo risolvere quindi è ottimista? di quelli cauti pensi è una situazione come quella dell'attuale Medio Oriente e alla complessità dei problemi che attraversa tutta la regione ricordo che nel primo incontro che ebbi con il primo ministro di Israele Sharon mi disse signor presidente le faccio presente che ora si trova in una regione dove non ci si può assolutamente fidare di nessuno e intendo proprio nessuno sono convinto che all'epoca ne avesse già passate tante tra queste un gran numero di tragedie e che ormai aveva smesso di sperare nella possibilità di un cambiamento di rotta positivo io però sono convinto che presto o tardi in quella regione tornerà finalmente la pace e che tutti i suoi abitanti troveranno il modo di coesistere in un contesto almeno relativamente sicuro per quanto oggi possa sembrare improbabile una soluzione del genere nessuna religione del mondo professa la malvagità l'islam ha molte correnti ci sono gli sciiti i sunniti è evidente la divisione tra queste due correnti dell'islam ma credo che prima o poi questa divisione verrà colmata oppure Mosca sarà un califato noi faremo in modo di evitarlo lei dovrebbe vigilare che Washington non si trasformi in un califato grazie siete stati molto vicini al sentiero di guerra e adesso succede di nuovo la sua è una presidenza molto tesa ecco in realtà non ci sono mai stati tempi molto facili dobbiamo semplicemente ringraziare Dio di averci offerto la possibilità di servire il nostro paese salve salve allora lei si può sedere qui signor Putin io mi siederò lì io farò il giro e ci incontreremo qui ma se vuole posso scendere da lassù ci incontreremo qui da lì mi piace di più da un senso di profondità in effetti c'è un bar lì dietro se vuole più indietro più indietro va bene va bene bene è pronto farò finta che non ci conosciamo e faremo finta che non ci vediamo da mesi ok e azione azione di azioni in russo ci siamo dov'è il protagonista azione è andato a un'altra riunione oh eccolo vuole caffè? no molto gentile prego grazie signor presidente come sta? è passato molto tempo zucchero non c'è zucchero c'è stato molto movimento negli ultimi mesi nel mio paese in America ci sono state le elezioni congratulazioni Donald Trump ha vinto questo per lei è il quarto presidente dico bene? il primo è stato il signor Clinton il signor Bush il signor Obama e adesso è arrivato il quarto sì che cosa è cambiato? direi quasi niente la pensa così per tutti o pensa che qualcuno abbia cambiato qualcosa? vede è la vita che ti fa cambiare ma la realtà è che specie negli Stati Uniti l'apparato burocratico è molto forte ed è la burocrazia a dirigere il mondo c'è qualche possibilità o speranza di cambiamento con il signor Trump? in realtà la speranza c'è sempre almeno finché non ci porteranno al cimitero per seppellirci è una cosa molto russa da dire sembra Dostoyevsky Vladimir Putin un'altra forma di sicuramente che questo non succederà era di parlare con lui direttamente e di dire che non ci porteranno le elezioni sono state criticate pesantemente e i titoli di tutti i telegiornali e dei media in occidente dicono che la Russia ha interferito in questa elezione per favorire il signor Trump questa è è una convinzione senza fondamento siamo sicuramente soddisfatti dell'elezione del signor Trump perché ha più volte dichiarato pubblicamente l'intenzione di ristabilire rapporti amichevoli con la Russia se fosse stato eletto e quando giornalisti di tutto il mondo mi hanno chiesto di commentare la cosa io ho sempre domandato se c'era qualcuno contrario ad un clima più rilassato tra Russia e Stati Uniti ovviamente ci sarà da da verificare cosa succederà effettivamente tra i nostri due paesi ma l'accento è stato posto sui rapporti commerciali e la lotta al terrorismo il che mi sembra positivo certo allora perché avrebbe dovuto hackerare le elezioni? noi non abbiamo mai interferito in quel senso ora sarebbe difficile immaginare un paese fosse anche un paese importante come la Russia che riesce a influenzare la campagna elettorale o le stesse elezioni degli Stati Uniti torno a ripetere degli ignoti hacker hanno portato alla luce alcuni problemi ma non credo possano avere condizionato la campagna o il risultato torno a ripetere degli hacker hanno messo in grande difficoltà i democratici ma non hanno inventato niente né hanno cercato di ingannare qualcuno e il fatto che la portavoce del comitato esecutivo del partito democratico si sia dimessa a testimonio che deve esserci qualcosa di vero quindi inutile prendersela con gli hacker questi sono problemi interni degli Stati Uniti qualcuno ha poi cercato di manipolare l'opinione pubblica tentando di creare l'immagine di un nemico identificandolo con la Russia quando avrebbero dovuto scusarsi con il loro elettorato io credo che il popolo americano aspetti da molto tempo un cambiamento reale in particolare in merito alla sicurezza alla lotta alla disoccupazione e quindi nella ricerca di nuovi posti di lavoro parlo anche della difesa dei valori tradizionali perché in gran parte gli Stati Uniti sono un paese dei puritani quantomeno nella parte più interna lontano dalle grandi città e Donald Trump e il suo staff sono stati sicuramente molto abili in questo senso hanno compreso dove erano localizzati i propri elettori quali erano gli stati in cui avrebbero potuto raccogliere la maggior parte dei voti e si sono concentrati su quelli e quando ho seguito i suoi discorsi durante la campagna ho spesso pensato che stesse esagerando ma in effetti ha avuto ragione lui sa come arrivare al cuore delle persone per ottenerne il consenso e non credo che qualcuno possa obiettivamente mettere in dubbio il risultato di queste elezioni al contrario chi è stato invece battuto dovrebbe tirare le conclusioni di quanto è successo dovrebbe dovrebbe fare autocritica invece di cercare scuse all'esterno io credo che Obama e la sua squadra abbiano creato una specie di campo minato per accogliere il presidente entrante parlo di un ambiente che gli renderà difficile realizzare il proprio programma elettorale anche se non ci aspettiamo certo una rivoluzione ma persino Trump ha detto che la Russia ha hackerato le elezioni non so cosa intenda con hackerare le elezioni ho sentito diverse sue dichiarazioni in questo senso ma vorrei solo ricordare che nella situazione attuale questi attacchi possono essere condotti quasi letteralmente da chiunque è la tecnologia per metterlo è la realtà basta un computer e qualcuno con le competenze adatte e il bello è che può farle credere di agire praticamente da qualunque paese del mondo tutta questa storia mi sembra un evento storico importante perché che è proprio tutti i due partiti principali tutta l'intelligence l'FBI l'ACIA l'NSA e la leadership politica della Nato credevano che la Russia avesse hackerato le elezioni è incredibile non è esattamente così e credo lei sia conoscenza dei documenti e delle analisi che ne parlano ha letto il rapporto di 25 pagine? certo sì certo un rapporto dettagliato sull'attacco informatico russo non solo contro il comitato nazionale democratico ma contro la casa bianca lo stato maggiore congiunto il dipartimento di stato e anche compagnie americane alcuni attacchi sono riusciti altri sventati ora secondo certi servizi di intelligence è molto probabile che la Russia abbia veramente interferito secondo altri la probabilità invece è abbastanza scarsa e tutti basano le proprie convinzioni sulle stesse analisi non ci sono certezze è come se qualcuno provasse odio per un certo gruppo etnico e si schierasse ad esempio su posizioni antisemite e nell'incapacità di portare avanti questa o quell'azione ne desse la corruzione è la colpa agli ebrei perché è loro la colpa di tutto e sono queste le persone che incolpano la Russia perché è sempre nostra la colpa di tutto quello che succede nel mondo e a quanto pare non ricordo se ieri o oggi il senatore McCain ha proposto un veto del senato nel caso in cui Trump voglia togliere le sanzioni alla Russia preventivamente sfortunatamente negli Stati Uniti ci sono ancora molti senatori così Putin è un uccidio non c'è un uccidio tra gli Stati Uniti e la Russia ripeto non c'è un uccidio tra gli Stati Uniti e gli Stati Uniti e gli Stati Uniti d'America il paese che Ronald Reagan costava chiamare una città su una piazza sinceramente devo dire che provo quasi sentia per il senatore McCain non sto scherzando mi piace per il suo patriottismo e per il vigore con cui lotta per gli interessi del suo paese nell'antica Roma c'era Marco Porzio Catone un grande oratore che concludeva sempre i suoi discorsi al senato dicendo Cartagine deve essere distrutta Cartagine deve essere distrutta è famosa esatto ora chi ha delle convinzioni così fortemente radicate come il senatore repubblicano a cui ha appena accennato vive ancora nel passato e si rifiuta di guardare al futuro e non afferra la velocità con la quale sta cambiando il mondo non ne vede le minacce reali e i ricordi non permettono loro di guardare in avanti ma solo indietro noi abbiamo appoggiato la loro lotta per l'indipendenza siamo stati fedeli alleati durante la prima e la seconda guerra mondiale e adesso dobbiamo affrontare molte sfide comuni come il terrorismo dobbiamo sconfiggere la povertà nel mondo l'inquinamento globale che rappresenta una minaccia per l'umanità intera e anche l'arsenale atomico che abbiamo accumulato rappresenta un pericolo non da meno sono tutte minacce da considerare e da risolvere la Russia viene sempre accusata di essere molto sleale è un'accusa molto pesante i media lo ripetono sempre di più e sembra che la cosa sia entrata nella mentalità degli Stati Uniti ormai è scontato dicono che la Russia ha chiarato le elezioni in molti dicono che Trump è un burattino del Cremlino che sia in debito con voi tutto questo porterà a una situazione in cui per il signor Trump sarà impossibile o almeno molto difficile restaurare i rapporti con la Russia in caso volesse farlo in futuro come le ho già detto in precedenza chiunque chiunque parli di un nostro condizionamento della campagna elettorale degli Stati Uniti dice una falsità vede queste posizioni hanno diversi obiettivi delegittimare l'elezione del Presidente Trump creare condizioni che impediscano la normalizzazione dei nostri rapporti e infine fornire ulteriori strumenti da utilizzare nella guerra politica interna in corso negli Stati Uniti e in questo senso le relazioni tra Washington e Mosca sono da considerare un semplice strumento nella lotta politica interna molte persone sono stanche e credono che queste accuse contro di voi siano false e sono d'accordo con Julian Assange che continua a ripeterlo dal 2006 negli Stati Uniti molti considerano inconsistenti le accuse che ci vengono mosse ma resta in ogni caso il fatto che chi insiste in questo senso lo fa esclusivamente per i suoi interessi politici e non c'è nulla che noi possiamo fare al riguardo qualunque nostra spiegazione diventerebbe un nuovo strumento in questa guerra non dichiarata ma noi conosciamo i loro trucchi ma se conoscete tutti i loro stratagemmi perché non fate una dichiarazione riguardo a questa guerra informatica potreste dimostrare che questa cosa è impossibile che ci sarebbe dovuta essere una traccia ci sono così tante strade che avreste potuto intraprendere sembra che non vogliate difendervi dalle accuse che vengono mosse contro di voi lasciate che vi accusino e pensate che sia tutto normale sì lei ha ragione ma resta il fatto che queste cose non ci preoccupano si tratta di un loro problema interno ora ci terrei a ripetere una cosa gli hacker non possono aver influito più di tanto sull'ultima campagna elettorale degli Stati Uniti e in realtà quello che hanno fatto è solo portare alla luce dei problemi della vita politica americana e sicuramente non si sono inventati niente e le dirò anche che non importa granché se siano venuti dalla Russia o magari dall'America Latina dall'Asia o dall'Africa c'è qualche prova nel cyberspazio che la Russia può presentare in sua difesa? ci sono prove che indicano che ci siamo noi dietro? questa è la miglior difesa in realtà quei rapporti a cui lei ha accennato e che vengono dalla NSA o dalla CIA non contengono niente di concreto non ci sono altro che semplici ipotesi e concetture e concetture Trump ha affermato anche più di una volta che vuole una crescita del settore militare sia in campo nucleare che convenzionale il che non ha senso come fa l'America a spendere più di quanto sta già spendendo? di questo ne abbiamo già parlato gli Stati Uniti spendono per la loro difesa più di tutto il mondo messo insieme si rende conto dell'enormità di cui stiamo parlando i contribuenti americani dovrebbero iniziare a rifletterci su ci sono altre cose su cui spendere certe somme come la sanità pubblica l'istruzione e il sistema pensionistico ci sono molte questioni sociali da affrontare con un debito pubblico di quasi 20 trilioni di dollari ai militari non bastano mai i soldi che stanziamo per la difesa e mi creda abbiamo anche noi gli stessi problemi in quel senso spera di poter avere un incontro in futuro nei prossimi mesi con il signor Trump sono certo che presto ci incontreremo ma senza troppa fretta il presidente Trump dovrà prima elaborare una propria posizione sugli argomenti di fondo e dovrà elaborarla con i vostri servizi segreti il dipartimento di stato e i vertici militari senza poi dimenticare le varie posizioni all'interno del congresso una volta che la nuova amministrazione sarà pronta a passare all'aspetto pratico delle cose noi risponderemo ma come farà lui a lavorare con l'intelligence se le stesse agenzie di intelligence dicono che la Russia ha hackerato le elezioni è un vicolo cieco no nessun vicolo cieco è una questione di rapporti personali se il signor Trump chiamasse per richiedere che i file sull'Ucraina e i file sulla Siria venissero declassificati e volesse vedere l'origine di questi problemi secondo lei c'è la possibilità che possa cambiare opinione? ma sì questo è possibile però io ci terrei a ripetere che va inserito tutto in un contesto siamo come dire siamo adulti e sappiamo bene come vanno certe cose la speranza è che quando avrà preso possesso della reale natura delle sfide che lo attendono sia in grado di sviluppare una sua visione di quello che succede da cui possa derivare un clima di mutua comprensione su cui poter costruire qualcosa di serio dobbiamo poter lavorare concretamente con il Dipartimento di Stato e far sì che questo nuovo clima si allarghi anche ai livelli di servizi segreti e di uffici per la sicurezza nazionale a questo punto non bastano più le dichiarazioni ufficiali né da parte loro né nostra vogliamo sapere quali temi vogliono trattare con noi basta con i discorsi rivolti all'opinione pubblica serve un dialogo costruttivo devono ascoltarci quando ci sarà il prossimo G20 ah in estate credo a luglio in teoria quello sarebbe il vostro primo incontro se non vi vedeste prima sì potrebbe anche darsi so che avete parlato al telefono due volte sì ci siamo sentiti telefonicamente sia prima sia dopo il suo insediamento e immagino uno degli argomenti sia stato il terrorismo sì certo di lotta al terrorismo e anche della grave situazione in corso nella Corea del Nord certo abbiamo parlato di disarmo nucleare e infine di Ucraina sì certo capisco nel 2012 gli Stati Uniti hanno interferito nelle elezioni russe in effetti questo glielo posso dare per certo sia nel 2000 che nel 2012 ma nel 2012 fu particolarmente evidente non posso scendere in particolari ma le basti sapere che l'abbiamo anche fatto presente ai nostri partner americani ne ho parlato con Obama e con John Kerry ma restava difficile immaginare che dei diplomatici potessero interferire così pesantemente con l'attività elettorale in atto in Russia abbiamo programmi e altre cose e altre cose con quelli che vogliono lavorare in gioco sto parlando tra l'altro del Dipartimento di Stato che può anche controllarle indirettamente è una situazione sempre più frequente nei territori dell'ex-URSS nell'Europa occidentale in Africa in America Latina sì ci sono state interferenze a livello informatico nel 2012 ad essere sincero non mi sono mai preoccupato eccessivamente di quel fatto noi abbiamo dei problemi ben chiari su cui concentrarci ma ho la sensazione che molti dei nostri partner vivano in una dimensione tutta loro senza un contatto diretto con quanto accade in altri paesi tra i quali la Russia facciamo un po' di chiarezza perché la guerra informatica è reale abbiamo intrapreso questa strada qualche anno fa nel mio film su Snowden mostriamo una cosa molto interessante mentre lui si trova in Giappone era un po' di chiarezza e noi non stavamo qui. Una volta che avevano il sistema di comunicazione, abbiamo cominciato la infrastruttura fisica. Abbiamo imparato questi piccoli progetti in grida, dams, hospitali, e l'idea è che se il giorno veniva quando non era più l'alli, sarebbe l'impianto. E non era solo il giapponese, stavamo in mexico, gioco, Allerio, stai catturando l'arrivo, gioco, l'arrivo, ma ma... ... ... ma anche dovuto seguire molte leader mondiali e le lezze dell'industria. Si tratta di trattamento di soldi, scambi, diplomani, per dare gli USA un'avvita in negoziati a G8, o per l'esercizionare i compagni di brazilliano, o per aiutare a un'esercizionale mondiale che non è giocato. E, finalmente, la verità sinksa in, che non importa qualsiasi giustificazione, questo non è per il terrorismo. Il terroirismo è l'escusa. Questo è sull'economia e controllo sociale. E l'unica cosa che ti proteggono è la supremacità del tuo governo. Gli americani devono stare attenti a molte cose. E devono lavorare in ogni campo. I 600 miliardi di dollari spesi dal Pentagono non sono solo soldi spesi sulla sicurezza o sulla difesa. Diciamo che l'America ha messo dei malware nelle infrastrutture giapponesi per distruggere centrali elettriche, ferrovie, per creare un blackout. La Russia ha parecchi passi davanti a me e avrà capito il pericolo che corre. Quindi avrà già messo in atto un piano per evitare che questo possa accadere in Russia. visto che sarebbe uno dei nemici più ovvi per gli Stati Uniti. Probabilmente lei non mi crederà, ma adesso dirò qualcosa che potrà sembrarle strano. Fin dai primi anni 90 del secolo scorso, noi abbiamo considerato chiusa la guerra fredda. Di conseguenza abbiamo anche considerato superfluo a qualunque nuova misura protettiva, perché ormai ci consideravamo parte integrante della comunità internazionale. Non avevamo nulla che producevamo internamente. Le nostre industrie più importanti, i ministeri e le compagnie governative, compravano tutto all'estero. Le parlo di hardware e di software. Per la maggior parte stiamo ovviamente parlando di prodotti americani, che abbiamo utilizzato anche nella difesa. Solo recentemente ci siamo resi conto della minaccia che questo rappresentava e abbiamo iniziato a pensare a come assicurarci l'indipendenza tecnologica, salvaguardando così la nostra sicurezza interna. E a quel punto abbiamo iniziato a prendere tutte le misure necessarie. Va bene. Questo è un discorso che Snowden ha fatto nel 2007 e 2008 e ha detto che il bersaglio erano gli alleati, che era il Giappone. Se stanno usando dei malware contro gli alleati, allora vi chiedo, cosa stanno facendo con paesi come la Cina, la Russia, l'Iran e così via? Insomma, capisce quello che intendo? La Russia doveva sapere per forza che l'America stava usando dei malware contro i suoi alleati già nel 2007. Gli Stati Uniti non lo ammettono, ma si sa che nel 2010 siamo riusciti a far entrare il virus Stuxnet in Iran. Ascolti, noi lo sappiamo benissimo. Nell'autunno del 2010 si credeva che l'obiettivo fosse la struttura segreta iraniana più importante per l'arricchimento dell'uranio a Natanz e che lo Stuxnet fosse un'arma costruita attentamente e progettata per entrare nella struttura distruggendo portattili e pennette USB e per infettare il sistema. Nasconde la sua presenza, si muove attraverso la rete cambiando i codici dei computer e cambiando la velocità delle centrifughe, tenendo all'oscuro gli iraniani. Un sabotaggio informatico. Ci sono stati degli attacchi contro la Russia nel 2007 o negli anni precedenti? Ma per noi allora non rappresentava un problema. le nostre centrali atomiche e gli impianti che producevano testate nucleari accoglievano continuamente osservatori americani. Sì, certo. Questo è successo in che anno? Ma credo sia durato fino al 2006, ma non ricordo esattamente. Ad ogni modo si trattò di un'apertura senza precedenti. E poi cosa è successo? Ma per gli Stati Uniti la cosa non sembra avere nessun valore. La Russia quando ha sviluppato le sue capacità informatiche? Oh, come comprenderà si è trattato di un processo molto lungo. Abbiamo dovuto recuperare tutto il tempo perduto e non è stato facile. Fortunatamente non partivamo certo da zero. Abbiamo ottime università e ottime facoltà di matematica. Abbiamo investito fino a 7 miliardi di dollari all'anno nel settore che adesso è diventato molto competitivo anche a livello internazionale. non solo nel software, ma anche nell'hardware e anche nei super computer. Io credo che la Russia stia combattendo una battaglia contro gli Stati Uniti, una battaglia segreta, una guerra informatica. Credo che gli Stati Uniti cerchino di fare qualcosa contro la Russia e che la Russia cerchi di difendersi e che poi contrattacchi. Vedi, quando c'è un'azione c'è sempre una reazione. Si comporta in modo strano riguardo a questa faccenda. Come se fosse un po' colpevole. Sembra una volpe che è appena uscita da un pollaio. No, ormai non ci sono più galline indifese. Alcune settimane fa ho letto un rapporto che poi è sparito dopo un giorno o due e che indicava che più di 20 nazioni, a quanto pare, sono state colpite da una batnet. In Russia sono state colpite sei grandi banche. Tutto questo è accaduto dopo le elezioni ed è di una grandezza tale che fa pensare a un attacco americano al sistema bancario russo. Due grandi banche, la WTB24 e l'Alfa Bank, oggi hanno subito un attacco informatico. La scorsa settimana anche il sito della banca centrale è stato attaccato. Sono state colpite l'Alfa Bank, la Sberbank di Mosca, la Rosbank e anche la Borsa di Mosca. Gli attacchi sono iniziati l'8 novembre, alla vigilia delle elezioni presidenziali americane. Non ce lo siamo dimenticati. Avevamo avuto delle informative su un possibile attacco, ma non eravamo certi che ci sarebbe stato. Ad ogni modo, per questioni di sicurezza interna, il sistema bancario ha avvisato i media e quindi i loro clienti di un potenziale attacco che poteva essere imminente e che non c'era motivo di farsi prendere dal panico. Questo per impedire che ci fosse una inutile corsa agli sportelli per ritirare i propri depositi, ma non abbiamo incolpato gli Stati Uniti. Non ne avevamo le prove. Sembra una faccenda molto complicata. Insomma, prima il signor Biden dice che attaccheremo la Russia proprio come loro hanno attaccato noi. E poi è stato il turno del signor Obama. Sono parole scioccanti a dir poco. E sono parole pesanti. Prima dal vicepresidente e poi dal presidente. Sono persone importanti. Quindi qualcosa è successo prima delle nostre elezioni. Hanno detto entrambi... Quando sarà ora? Ma il tempo era ormai scaduto per quell'amministrazione. Se devo essere sincero, e non voglio certo offendere qualcuno, ma quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni mi ricorda il polibiu ro del Partito Comunista dell'Unione Sovietica quando ci si dava ordini e onorificenze gli uni con gli altri. Ho sempre trovato divertenti queste premiazioni detto tra noi. Ad ogni modo era evidente che quell'amministrazione non aveva più tempo per prendere decisioni serie. Lei la fa facile, ma in vista dei soldi che gli Stati Uniti hanno speso per la nostra tecnologia informatica, secondo me è una minaccia seria. Ho paura che lei la stia sminuendo perché qualcosa è veramente successo e non vuole rivelarlo. Magari per qualche rapporto delicato. Lei è deluso perché gli Stati Uniti non hanno intrapreso alcuna azione concreta o le dispiace per i contribuenti? No, sono preoccupato perché credo che la guerra informatica potrebbe portare a una guerra vera e propria. Lo credo davvero, perché già in passato il virus Stuxnet ha quasi fatto cadere il mondo nel caos più completo. Credo che sia pericoloso, molto pericoloso. E secondo me stiamo giocando col fuoco. Sì, è pericoloso. Sì, lo so. Beh, è ovvio che è a conoscenza di qualcosa e capisco che non la voglia rendere pubblica, ma riusciremo a sostenere le conseguenze? A me sembra che quello che è successo in Iran, in qualche modo, potrebbe essere tanto grave quanto quello che è successo nel 1945 a Nagasaki e Hiroshima. Era l'inizio di una nuova era. Ma in effetti le armi che si sono utilizzate a Hiroshima e a Nagasaki rappresentano una pagina tragica per la storia dell'umanità, perché hanno permesso che il genio uscisse dalla lampada. Inoltre, secondo i nostri esperti, l'utilizzo della bomba atomica non era più necessario, perché il Giappone ormai era già ridotto in ginocchio. Ad ogni modo, questo suo confronto tra Stuxnet e armi nucleari non regge. Resta comunque l'esigenza di un codice di condotta in questo senso e qui sono sicuramente d'accordo con lei. Le conseguenze dello scatenarsi di una guerra informatica potrebbero essere davvero molto serie, forse addirittura tragiche. A me sembra una guerra segreta, ma nessuno sa chi l'ha iniziata. Nessuno sa se è stata una nazione a intermediare, se è stata la Corea del Nord ad attaccare la Sony. Queste voci girano, ma se di notte andasse via la luce in Russia, le persone cadrebbero nel panico. Sarebbe così anche in America. E nessuno saprebbe chi è stato. È quasi impossibile che i cittadini russi si facciano prendere dal panico. Questa è la prima cosa che ci tenevo a dire. La seconda è che le economie più avanzate tecnologicamente sono quelle maggiormente a rischio. Ma resta in ogni caso la pericolosità di un fenomeno che avrebbe bisogno di essere inquadrato o entro regole più stringenti. Non possiamo continuare a far finta di niente. Io con questo non voglio... Un trattato. No, non è proprio così. È lei che sta cercando di farmi dire delle cose che io non voglio dire. Circa due anni fa, nell'autunno del 2015, abbiamo proposto una sorta di accordo quadro alla controparte americana, approfondire l'argomento e redigere una sorta di codice di comportamento. L'idea era di arrivare a delle regole, ma gli americani non hanno risposto, ignorando la nostra proposta. Questo è un argomento di cui possono parlare il signor Trump e il signor Putin. Ma siamo sicuramente pronti ad aprire una nuova pagina nelle relazioni russo-americane. John Reed è l'unico americano seppellito al Cremlino. Interpretato da Warren Beatty nel bellissimo film Reds. Ha scritto della rivoluzione, era qui nel 17 e nel 18. Aveva molto a cuore il socialismo e ha fondato il Partito Comunista americano. Non era assolutamente una cosa negativa, perché era molto idealista ed era composto da lavoratori, che in America facevano molti soperi e c'era molta resistenza da parte delle aziende. E da moltissime persone è considerato un eroe. Ovviamente era contrario alla Prima Guerra Mondiale, come molti pacifisti e persone per bene. Dalla Prima Guerra Mondiale è venuta fuori la rivoluzione russa e questo è molto interessante dal punto di vista dei ruoli degli imperi. Adesso stiamo andando verso la tomba di Lenin. L'ho visitata molti anni fa, ma alcune restrizioni non ci permettono di entrare e di fotografare. A proposito della tomba di Lenin, un fatto interessante è che l'anno prossimo sarà il centenario della rivoluzione, che è stato un grande evento, e molte persone adorano Lenin. In parecchie città della Russia ancora si possono vedere molte sue statue. D'altra parte, con la caduta del comunismo nel 91 e con tutta la sofferenza causata alla popolazione, ci sono sentimenti contrastanti e non sanno se onorarlo o meno durante il centenario. Sarebbe un buon momento per lasciarlo andare, perché se la sua anima è davvero qui, in questa tomba, a me non piacerebbe rimanere qui altri cento anni e venire osservato da tutti. Secondo me dovrebbero fargli fare una pausa, così che possano andare avanti e cercare una nuova guida simbolica. Entrare qui è un'esperienza davvero solenne, ve l'assicuro. C'è molto silenzio. Una o due guardie sono sempre presenti. Non ti mettono fretta, come succede in molti posti. Ti lasciano tutto il tempo che ti serve, così ti puoi siedere ad ascoltare e a pensare. E' un'esperienza molto intensa. Brezhnev, Feris Zerzynski, Yuri Andropov. E secondo molti il più grande cattivo della storia insieme ad Adolf Hitler, Stalin. Per i rivoluzionari, per le persone di sinistra che credevano che il comunismo significasse un cambiamento in meglio per i lavoratori, lui è stato una disgrazia perché ha avuto una terribile reputazione e ha ammacchiato l'ideologia per sempre con un miscuglio di sangue e terrore. Ma ha avuto un ruolo fondamentale nella Seconda Guerra Mondiale ed era un grande alleato degli Stati Uniti durante la guerra. E dov'è il signor Trotsky? Non c'è, lo sapevate? Stalin è riuscito a cancellare il ricordo di Trotsky. Alla fine è stato ucciso in Messico dagli agenti del signor Stalin. Andiamo. Riguardo a Stalin, lei ha spesso detto delle cose negative su di lui e ovviamente è stato criticato molto dopo la guerra. Ma allo stesso tempo tutti sappiamo che ha condotto la Russia alla vittoria contro la Germania, contro il fascismo. Lei che ne pensa di questa, diciamo, questa ambiguità? Lei è una persona molto astuta. Perché? Possiamo parlarne domani se vuole. No, no, sono pronto a risponderle anche adesso. C'è stato uno dei più grandi uomini politici del passato, Winston Churchill, che si è sempre schierato contro il comunismo. Ma dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale divenne di colpo il principale paladino della collaborazione con l'Unione Sovietica e rinegando praticamente se stesso definì Stalin un grande capo militare e un rivoluzionario. Dopo la vittoria, come credo sappiano tutti, fu proprio Churchill a scatenare la guerra fredda. E quando l'Unione Sovietica condusse il primo test nucleare fu di nuovo Winston Churchill a parlare di necessario clima di coesistenza tra i due sistemi. Sapeva bene come adattarsi, ma sono convinto che non abbia mai veramente cambiato idea su Stalin. Stiamo parlando di un uomo del suo tempo. Possiamo cercare di demonizzarlo quanto vogliamo, ma non possiamo negare i suoi meriti nella vittoria sul nazifascismo. In quanto alla demonizzazione, pensiamo a un personaggio come Oliver Cromwell, un essere sanguinario arrivato al potere cavalcando una rivoluzione e che si è poi trasformato in un vero tiranno. Eppure ci sono monumenti che lo ricordano in tutta la Gran Bretagna, Napoleone è ancora idolatrato. Ma che cosa ha fatto? Ha sfruttato anche lui una rivoluzione per arrivare al potere e poi autoproclamarsi addirittura imperatore, conducendo la Francia alla catastrofe, non solo militare. Credo che personaggi del genere ce ne siano stati fin troppi nella storia, ma io sono convinto che l'eccessiva demonizzazione di Stalin sia solo l'ennesimo modo per attaccare l'Unione Sovietica e quindi anche la Russia e per dimostrare che la Russia di oggi trova le sue origini nello stalinismo e in quanto di peggio rappresenta. Ovviamente non possiamo rinnegare le nostre origini. Sono d'accordo. È impossibile, quello che dico è che la Russia è cambiata moltissimo, al punto da essere diventata un altro paese. Forse è rimasto qualcosa nella nostra mentalità. Ma questo non significa che si possa o si debba dimenticare le atrocità commesse in quel periodo, la morte di milioni di compatrioti uccisi pretestuosamente, i campi di concentramento, queste sono cose da non dimenticare. Suo padre e sua madre lo ammiravano, giusto? Sì, certamente, moltissimo. Credo che la stragrande maggioranza dei russi nutrisse una grandissima ammirazione per lui. Quando sono morti i suoi genitori? Mia madre è morta nel 98 e mio padre l'anno dopo, sì. Erano orgogliosi di lei? Sì. Sua madre e suo padre saranno rimasti senza parole. Ah, beh, mio padre, dunque, è morto due mesi prima che diventassi primo ministro, sì, solo due mesi prima, ma anche prima che diventassi primo ministro, quando andavo a trovarlo in ospedale, lui mi guardava e diceva sempre alla infermiere «Arriva il mio presidente!» Arriva il mio presidente, sì, molto bello. Gli Stati Uniti, in pratica, la accusano di aver creato un sistema centralizzato e autoritario. Lo chiamano un capitalismo oligarchico di Stato. D'altra parte, ovviamente, erano molto contenti della Russia del 90, in cui i vecchi oligarchi prosperavano prima che arrivasse lei e poi lei è riuscito a fermare e ad allontanarne qualcuno da solo. Mi ha raccontato una storia in cui ha fatto una riunione a Mosca e in questa riunione ha detto a tutti che avevate una responsabilità verso il popolo e verso lo Stato. Dunque, l'elite occidentale afferma che lei ha messo i suoi oligarchi al potere in questi ultimi 15 anni, mentre i vecchi oligarchi sono in posti come Londra e ammettono di aver accumulato grandi ricchezze. Ma hanno detto che è stato lei a guidarli verso la ricchezza e che la condivideva con loro e che lei è l'individuo più ricco al mondo. Dai tempi di Rockefeller, Morgan o Onassis, sì, lei ride e io lo apprezzo, ma come leader del suo popolo, come Chavez o Castro o come molte altre persone che sono state accusate di corruzione, c'è un modo in cui potrebbe rendere la sua ricchezza personale più trasparente? Diciamo subito che non sono così ricco. Ricordo che quando sono arrivato a Mosca, da San Pietroburgo, rimasi esterefatto da quanti se ne erano riuniti qui a Mosca. E soprattutto dai loro comportamenti, era una cosa a cui non riuscivo proprio ad abituarmi. Quella gente non dimostrava nessuno scrupolo. era un'oligarchia? Io direi un'integrazione di denaro e potere per la loro capacità di influenzare la politica al solo scopo finale di accumulare altra ricchezza. Il mio compito era quello di separare denaro e potere. Nel 2008 coinvolsi diversi imprenditori privati con i quali non avevo mai avuto prima alcun rapporto e che, con mia grande sorpresa, dimostrarono grandissime qualità sia a livello professionale che morale, assumendosi la responsabilità di molte imprese, questo salvaguardando al tempo stesso i livelli occupazionali. In ogni caso, quello che ovviamente mi auguro è che nel rispetto dell'attuale legislazione il nostro settore privato continui a svilupparsi in futuro. Quello che è certo è che adesso il tema dei grandi oligarchi fortunatamente non è più centrale come era diventato negli anni 90. Al momento ci aspetta una sfida ancora maggiore, quella di diminuire la differenza economica che divide la parte più ricca della popolazione da quella a reddito basso. Nel 2000 avevamo circa 40 milioni di persone sotto la soglia di povertà. Adesso sono ancora molti, ma sono ridotti alla metà. Per quello che riguarda gli oligarchi ormai non rappresentano più un vero problema per noi. Quindi non c'è nessun conto in banca a Cipro? No, non c'è mai stato in realtà. Ce lo siamo immaginati. Dai, non c'è mai stato. Beh, facendo un'osservazione personale, devo dire che mi divertirei molto di più se fossi ricco. Sì, ma vede, io non credo che la felicità dipenda soltanto dal denaro. Con questa crisi si finirebbe solo per preoccuparsi dei propri investimenti e di come cercare di metterli in salvo. una cosa questa da farti venire in mal di testa. Le assicuro che lei è molto più ricco di quelli che hanno una fortuna in banca. Perché lei riesce a farsi delle opinioni proprie. Lei ha talento, ha la possibilità di esprimerlo e di lasciare qualcosa di importante dietro di sé. Queste cose non si fanno con il denaro. Quando si è in una barra le tasche diventano inutili. Se si ricandidasse nel 2018 e vincesse, salirebbe al potere per altri sei anni, fino al 2024. Sarebbe al potere da presidente e primo ministro per 24 anni. Più di Roosevelt, meno di Castro, che è quasi arrivato a 50 anni. E vicino a Stalin, che è arrivato più o meno a 30 anni. Sì, 27 anni. Questo non la spaventa? Non si abitua al potere? Non distorce il suo punto di vista? Sente che la Russia ha così tanto bisogno di lei? Non ci può essere una sana competizione tra i successori all'interno del sistema. Il sistema monopartito cinese è un esempio di competizione interna. I loro successori vengono osservati per molti anni, visto che sono membri del partito in diverse province. I leader dell'Unione Sovietica venivano scelti, ma è crollata lo stesso. Sì, è vero, ha ragione. Vede, secondo me, il punto non è soltanto il processo di selezione. Ora, lei mi ha chiesto se la Russia ha veramente tanto bisogno che io resti al vertice, ma sarà la Russia a deciderlo? È evidente la necessità che ci sia un processo di ricambio e che sia un processo improntato ad una sana competizione tra diversi candidati. Ma questi dovranno dimostrare di aver davvero a cuore l'interesse del paese prima di qualunque altra cosa. In ogni caso, mi permetta di riaffermare che saranno i cittadini russi a decidere. In quanto alle elezioni del 2018, mi piace pensare che nella vita debba esserci un minimo di mistero e di incertezza. e quindi, mi permetta, non risponderò a questa parte della sua domanda. Lo capisco. Infatti ho detto sì. Non dovremmo utilizzare troppi sì. Sì? Ah, no, scusi. E ovviamente possiamo dire che la democrazia stessa, o come la vogliamo definire, ha dei difetti. Il sistema americano è tutt'altro che perfetto. Sappiamo che in America i soldi comprano il potere. Sicuramente anche il sistema russo ha dei difetti. Ed è molto improbabile che le prossime elezioni convinceranno il mondo che questa in realtà è una democrazia funzionante. A meno che non vengano fatti dei controlli internazionali, come è successo con Chavez in Venezuela. E in questo modo è diventato un processo molto trasparente. Lei pensa che dovremmo veramente preoccuparci di dimostrare qualcosa a qualcuno? Ma il nostro obiettivo è solo quello di rinforzare questo paese. È un'affermazione pericolosa perché può essere presa nel verso sbagliato. Coloro che abusano del potere dicono sempre che è una questione di sopravvivenza. Ma qui non si parla di sopravvivenza e noi non dobbiamo certo giustificarci. Abbiamo ben presente gli aspetti negativi a cui ha accennato l'eredità dell'Unione Sovietica e quella imperialista. Sono acqua passata. Ma ci sono anche le eredità positive. La Russia ha una storia millenaria, ha le sue tradizioni e la coscienza di quello che è giusto. E sappiamo quali sono le cose che rendono efficiente un governo. Qui non si tratta di aiutare qualcuno a raggiungere il potere o di permettere a qualcuno di preservarlo magari per decenni, ma di assicurare la crescita, la crescita economica e di sostenerla nel tempo, salvaguardando al tempo stesso le nostre capacità di difesa. E tutto questo non solo nei periodi di crisi e di gravi difficoltà finanziarie. Signor Putin, io non metto in dubbio neanche per un momento il suo amore e il suo orgoglio verso la Russia. Non ho dubbi. È chiaro che lei è un figlio della Russia e che ha fatto del bene a questo paese, dico davvero. Ma credo che tutti noi conosciamo il prezzo del potere e quando si è al potere per troppo tempo si sente che le persone hanno bisogno di noi. Ma allo stesso tempo si cambia e a volte neanche ce ne accorgiamo. Sì, è sicuramente una situazione pericolosa. Se chi detiene il potere perde il contatto con il paese, allora è sicuramente tempo che si faccia da parte. Va bene. Allora, che ore sono? È ora. Perfetto. Grazie, signor Putin. Grazie a lei. Grazie. Costa? Grazie. Grazie a lei. È stato un vero piacere. Grazie. Grazie per il suo tempo e per le sue interessanti domande. Ah, si figure. Senta, ma lei è mai stato picchiato? Picchiato? No, mai. Ah, sì, sì, mi è capitato. Allora non sarà una cosa nuova quando la piccheranno per aver fatto queste interviste. Oh, certo, sì, lo so. Lo so, ma ne vale la pena. Ne vale la pena se porta conoscenza e pace nel mondo. Grazie ancora. Grazie. Grazie, signora. Tornate presto. Ma certo. Ora si faccia... si faccia portare a San Pietroburgo e le sue notti bianche meritano di essere vissute. Grazie. Arrivederci. Grazie. I nostri amici americani. È la sua frase preferita. L'ha usata mille volte. Grazie, Dimitri. Ah, alla prossima. Sì, l'aspetto qui, d'accordo? La prossima volta sarà più rilassante. Va bene. Arrivederci. Grazie a tutti. Buona fortuna con l'esercito stasera. Dopo si prenda un po' di tempo libero. Sì, è una buona idea. Ma ora vada anche lei a riposarsi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.